Questo dottor Reis non è quel che sembra, c'è qualche mistero. Conviene tenelo d'occhio? No, sospetti precisi non è bianco. Per adesso è solo un'impressione. O a Serri si dice le corrispondenze. Fino ad oggi neanche una lettera. Proprio questo è strano. Dobbiamo fare un giro al fermoposta. E appuntamenti ne ha? Nel caso sono fuori dall'albergo. Ebbene, se ne sembra che il gatto ci covi, mi avverta. Per vedi questa conversazione segreta, l'indomani l'atmosfera si farà di nuovo pesante. Non c'è uno dei personaggi dell'albergo che non aggiusti la mira secondo i fucili che punta Salvador. Con un'attenzione così costante che più probabilmente la definiremmo sorveglianza. Perfino quel buon accione di Ramon si era affreddato. Filippo borbotta. Ovvio che c'è un'eccezione, già si sa. Ma lei, poverina, non può fare altro che preoccuparsi. E tanto. Pimenta oggi ha detto e rideva. Uomo maligno. Che questa storia darà ancora molto di chi parlare. Che vivrà, vedrà. Mi racconti cosa sta succedendo. La prego. Sono mantenendo un segreto. Non sta succedendo niente. Sono tutte asinate di chi non ha altro da fare che intomettersi nella vita altrui. Saranno asinate, certo. Ma ce ne andranno la vita amara. Dico la sua. Non dico la nostra. Lascia stare. Appena me ne vado dall'albergo ci sono subito le dicerie. Se ne va? Non me l'aveva detto. Prima o poi doveva capitare. Non potevo passare quel resto della vita. Non la vedrò mai più. E Lidia, che poggiava la testa sulla spalla di Riccardo Reis, lascia cadere una lacrima. Lui la sentì. Dai, non piangere. La vita è così. Le persone si incontrano, si separano. Chissà che domani tu non ti sposi. Bah, sposarmi. Ormai sto passando l'età. E dov'è che va? Metto su casa. Devo trovarne una che si adatta. Se vuole, se vuole che cosa? Posso venire da lei nei miei giorni di libertà. Non ho nient'altro nella vita. Lidia, perché ti piaccio? Non so. Forse per quello che ho detto. Perché non ho nient'altro nella vita. È tua madre, è tuo fratello. Certamente hai avuto qualche ragazzo. L'avrai di nuovo. Più di uno. Sei bella. E un giorno ti sposerai. Poi verranno i figli. Può darsi. Ma oggi tutto quello che ho è questo. Sei una brava ragazza. Non ho risposto a quel che l'ho mandato. Che cosa? Se vuole che venga da lei quando avrà la sua casa, nei miei giorni liberi. Tu lo vuoi? Sì. Allora vieni. Fino a quando? Fino a quando troverà qualcuno della sua educazione? Non era questo che volevo dire. Quando succederà, mi dica così. Lidia, non venire più a casa mia. E io non ci verrò più. A volte non so bene chi tu sia. Sono a cameria d'albergo. Ma ti chiami Lidia e dici le cose che in una certa maniera. Quando ci si mette a parlare, così come studio adesso, con la testa appoggiata sulla sua spalla, le parole vengono fuori diverse. Lo sento anch'io. Mi piacerebbe che un giorno trovassi un buon marito. Anche a me. Ma sento le altre donne, quelle che dicono di avere buoni mariti. E mi metto a pensare. Credi che loro non siano buoni mariti? Per me no. Che cos'è un buon marito per te? Non so. Sei difficile da accontentare. Niente affatto. Mi basta quello che ho adesso. Starei distesa qui senza nessun futuro. Sarò sempre tuo amico. Non conosciamo mai il domani. Allora dubite che sarai sempre mia amica? Oh, io... È un'altra cosa. Spiegati meglio. Non so spiegarlo. Se sapessi spiegare questo, saprei spiegare tutto. Spieghi molto di più di quanto tu creda. Via. Io sono un alfabeta. Sai leggere e scrivere? Appena. Leggere ancora ancora. Ma scrivere faccio molti errori. Riccardo Reis era senza sé. Lei lo abbracciò. La conversazione l'aveva avvicinata impercettibilmente a una indefinibile commozione. Quasi in dolore. Perciò fu fatto tanto delicatamente quel che fecelo dopo. Sappiamo tutti cosa. Nei giorni seguenti Riccardo Reis si mise in cerca di casa. Usciva il mattino, rientrava a sera. Pranzava e cenava fuori dall'albergo. Riseviva davanti a me come le pagine degli annunci del diario di Noticias. Ma non andava lontano. Quartieri per i feci non rientravano i suoi gusti interessi. Avrebbe detestato vivere, per esempio, dalle parti di Duos Doreos de Chionca. In Mores o Ares, dove erano state inaugurate case popolari di 5 e 6 stanze. Affitto veramente basso. Fra i 165 e i 242 studi al mese. Ma a lui le avrebbero affittate, né a lui le avrebbero volute. Così distante alla Baixa e senza la vista sul fiume. Cercava di preferenza casa immobiliate. E si capisce, un uomo solo, come si sarebbe regolato nell'acquisto di un arredamento. Immobile, biancheria, le stoviglie. Senza avere il consiglio di una donna. Certamente nessuno di noi si immaginerebbe Lidia che entra ed esce con il dottor Riccardo Reis da questi negozi. Dando opinioni, poverina. E in Marsenda, anche se ci fosse, suo padre consentisse che ne saprebbe lei della vita pratica. Di casa si intende la sua, che sua in realtà non è. Ne significa attesatto la parola mio, perché di me è da me fatto. E queste sono le due donne che Riccardo Reis conosce. Nessun'altra. È stata una suggerizione di Fernando Pessoa averlo chiamato Don Giovanni. Alla fine non è così facile lasciare l'albergo. La vita, qualunque vita, crea i suoi legami, diversi dall'una e dall'altra. Stabilisce un'inerzia che le intrinseca. Incomprensibile per chi dall'esterno serve criticamente secondo leggi proprie. Allora volta, inaccessibile alla comprensione dell'osservato. Insomma, accontentiamoci di quel poco che saremmo capaci di capire della vita degli altri. Loro ci ringraziano, magari ci ricompensano. Salvadonna appartiene né a questi né a quelli. Non nervosiscono le essenze prolungate dell'ospite. Così fuori dalle prime abitudini, avevo già pensato di andare a parlare con l'amico Victor. All'ultimo momento l'ho trattenuto un sottile timore. Vedersi coinvolto in storie che se finivano male, potevano sporcare anche lui. O peggio. Adoppiò l'attenzione riguardo di Riccardo Reis, disorientando con questo atteggiamento il personale, che non sa più come deve comportarsi. Perdonateci questi particolari banali, non si può vivere di solo pane e nemmeno di compagnatico. Sono così le contraddizioni della vita. In questi giorni si è avuta notizia che si è arrestato Luis Carlos Prestes. Speriamo non venga la polizia a chiamare Riccardo Reis per domandargli se l'aveva conosciuto in Brasile o se era stato un suo paziente. In questi giorni la Germania ha denunciato il patto di Locarno e ha occupato la zona renana. Tanto l'ha detto che l'ha fatto. In questi giorni è stata inaugurata a Santa Clara una fontanella fra entusiasmo delirante di abitanti, che fino a non aveva un'altra possibilità che rifornisse le bocchette di incendio. Del resto è stata una bella festa. Due innocenti creature, maschiette e femminucce, hanno riempito le brocchie d'acqua fra tanti battivani, tante viva, nobile popolo, immortali. In questi giorni è giunta a Lisbona un cerebro almeno di nome manuelesco che ha detto all'arrivo. La nuova idea, che si sta difendendo attualmente in Portogallo, mi ha fatto attraversare le sue frontiere. Con il rispetto di un discepolo e la profonda gioia di un credente, In questi giorni Churchill ha pronunciato un discorso e proclamare che la Germania è oggi l'unica nazione europea, che non teme la guerra. In questi giorni si è pubblicata la disperazione umana di Kierkegaard. In questi giorni, infine, è uscita al tivolo il film Bozambo, che mostra il benignito sforzo dei bianchi per annullare il terribile temporamento guacchieo dei propri primitivi. In questi giorni Riccardo Reis saltano affatto a Cercase. Giorno dopo giorno. Ormai demonizzato e sfoglia scoraggiato i giornali, che tutti gli dicono tranne quello che vorrebbe. Gli dicono che è morto Vinizelos. Gli dicono che Hortens de Bencourt ha affermato che l'internazionalista non può essere militare, e neanche può essere portoghese. Gli dicono che è piovuto ieri. Gli dicono che l'onda rossa sta crescendo in Spagna. Gli dicono che per setti scudi e 50 centesimi può comprare le lettere della monaca portoghese. Non gli dicono dove sta la casa in cui ha bisogno. Nonostante le buone manie di Salvador, gli è venuta il respirabile atmosfera dell'hotel Braganza. Tanto più che andandosi non perderà Lidia, gliel'ha promesso, garantendo così la soddisfazione delle ben note necessità. Di Fernando Pessoa si è ricordato poco, come se la sua immagine andasse svanendo. Con il ricordo che ha di lui, o meglio, è come una fotografia esposta alle luce, che a poco a poco ne smettisce i contorni. O una corona mortuale con i suoi fiori di stoffa, ogni volta più scoloriti, lo ha detto lui. Nove mesi, resta da sapere se arriveranno essertanti. Fernando Pessoa non si è fatto più vedere. Sarà stato il suo capriccio, ma l'umore, dispetto sentimentale. O perché morto, non può sfuggire i doveri del suo stato. In un'ipotesi, in fondo non sappiamo nulla della vita era al di là. E a Riccardo Reis, che avrebbe mai potuto mandargliene, non è venuto in mente. Noi, vivi, siamo egoisti e duri di cuore. I giorni stanno passando, monotori. Grigi, ora sono annunciati nuove temporali nel plateio. Piene mortali, bestie metà sciate della corrente. Case che crollano e tornano al fango, da cui sono state create. Dei campi di grano, neanche una traccia. Sull'immenso lago che copia i terreni prossimi ai fiumi, spuntano appena le chiome tondeggianti, dei salici piangenti. Le punte scramigliate, frassini e dei pioppi. Sui rami alti si impigliano le balle di fieno trascinate via. Gli sterbi. E quando le acque si abbasseranno, chiunque potrà dire, l'alluvione è arrivata fin lì. E sembrerà impossibile. Riccardo Reis non è vittima dei testimoni di questi disastri. Legge le notizie, guarda le fotografie, immagini della tragedia e il titolo. E' astento di scercadere la paziente curiosità del cielo, che con tanti modi a portarci via da questo mondo, gode tanto scegliendo il ferro e il fuoco, e tutta quest'acqua. Lo vediamo qui comodamente seduto su un divano del salotto, con la stufa accesa, fra i conforti di questo albergo. E se non possedessimo il dono di leggere nei cuori, non sapremmo che dolorosi pensieri lo occupano. La miseria è prossima, davvero prossima. A 50-80 km d'istanza. Lì ho qui, a meditare sul cielo crudele e su indifferenze di dei, che è tutta una sola e ugualissima cosa. Mentre ascolto Salvador, ordinare a Pimenta che vado a Chiosco a prendere il giornale. Spagnoli. Mentre riconosco i passi ormai inconfondibili di Lidia, che sai le scuole del secondo piano. E poi mi sono distratto. Passo volte le pagine degli annunci, mia costante ossessione. Case in affitta. Seguo discretamente la colonna con l'indice. Salvador non riuscirà a spiarmi e a sorprendermi. All'improvviso mi fermo. Casa mobiliata. Rua di Santa Catarina. Cauzione. E davanti agli occhi, altrettanto nitida come le fotografie dell'alluvione, mi si presenta l'immagine di quell'edificio. Il secondo piano con le iscrizioni. Quei pomeriggio che mi avevo trovato con Marsenda, come ho potuto sparirmi dalla memoria, ci andò immediatamente. Ma calmo, tranquillo, non c'è di più naturale. Profito di leggere il diario dei Notississias. Lo piego accuratamente. Così l'ho trovato, così lo lascio. Non sono di quelli che lasciano i fuori spattagliati. E mi alzo, dico a Salvador, vado a fare un giro. Non piove. Che spiegazione meno generica darei se me lo chiedessero. E pensando a questo, scopre che il suo rapporto con l'albergo, o con Salvador, è un rapporto di dipendenza. Osserva se stesso. E si rivede a lungo dei Gesuiti. A lungo i Gesuiti. Mentre infrange la disciplina e la regola senza altra ragione. Se non quelle che esistono regola e disciplina. Adesso peggio, perché non è semplice coraggio di dire Ehi, Salvador, vado a vedere una casa. Se mi piace, lascio l'albergo. Sono stufo di tè e di pimenta, e di tutti, eccetto che di Vidia. Chiaro che meritava ben altra vita. Ma non dice tanto. Dice solo Arrivederci. Ed è come se chiedesse scusa. La godardia non si manifesta solo sul campo di battaglia, o alla vista di un rasoio aperto e puntato contro il tremore viscere. C'è gente che ha un coraggio gelettinoso. Non ne hanno colpa. Sono nanti così. In pochi minuti Riccardo Reis si era giunto l'alto di Santa Catarina. Si volti sulla stessa panchina e due vecchi stavano guardando il fiume. Si voltarono quando dirono i passi. Uno di loro disse all'altro Questo è il tizio che è stato qui tre settimane fa. Non aveva bisogno di aggiungere particolari. L'altro confermò. Quello della ragazza, naturalmente molti altri uomini e donne sono venuti, di passaggio trattenendosi. Ma i vecchi sanno bene di che cosa parlano. E non ero le pensate che con la vecchiaia si perde la memoria. Che solo la memoria antica si è mantenuta e a poco a poco affiora come occulte fronde. Quando le acque in piene si vanno abbassando. C'è una memoria terriba nella vecchiaia. Quella degli ultimi giorni. Immagini finale del mondo. Ultimo istante della vita. Era così quando l'ho lasciata. Non so se rimarrà così. Dicono i vecchi quando arrivano dalla parte di là. Lo diranno anche questi. Ma l'immagine di oggi non è l'ultima. Sulla parte della casa che era in affitto c'è un cartello che informava. Per il visite rivolgersi l'amministratore. L'indirizzo è nella baixa. Tempo ce n'era. Riccardo Reis corse a carare d'Inz. Prese un taxi. Tornò accompagnato da un uomo grasso. Sì signore. Io sono amministratore. Ti aveva la chiave. Salirono. Questa è la casa. Grande. Spaziosa. Per una famiglia numerosa. Con il mamilo di mogano scuro. Letto grande. Guardarobo alto. Una sala da pranzo completa. Il buffet. La credenza per riportare la genteria. O i pet a seconda disponibilità. Il tavolo allungabile. E lo studio. Il ritorto a legno d'accio. E con il ripiano di la scrivania ricoperto di panno verde. Come un tavolo da biliardo. L'iso a uno degli angoli. La cucina e bagno di mentale. Ma accettabile. Però tutti i mobili sono nudi e vuoti. Non la stoviglia. Non un lenzuolo e un asciugamano. La persona che viveva qui è una signora anziana. Medova. È andata ad abitare con i figli. Si è portata a vedere le sue cose. La casa è affittata con i suoi mobili. Il caldo resse è vicino alla finestra. Attraverso il vetro e senza tende vide i palmizi della piazza. La damastora. I vecchi sudi sulla panchina. Il fiume sporco di fango un po' più in là. Le navi da guerra con la plura rivolta verso terra. Guardando loro non si capisce se la marea sta salendo o calando. Da tenendoci un po' lo vedremo presto. Quanto è l'affitto? Quanto è la cauzione per la mobilia? In mezz'ora al massimo. Con qualche discreta adattativa si misero d'accordo. L'amministratore aveva subito visto che stava trattando con persona degna e con una buona posizione. Domani le passa ai miei studi e firmò il contratto. E guarda dottore lascio la chiave. La casa è sua. Le caldo resse ringraziò. Vole a ogni costo pagare un acconto superiore al volo stabilito in queste transazioni. L'amministratore gli fece lì per lì una ricevuta provvisoria. Si sedette la scrivania. Estrasse la penna sclerografica rivestita con l'intarsi d'oro. Foglie e rabbetti stilizzati. Nel silenzio della casa si udiva solo il penino che raspava sulla carta. L'espirazione è un po' sibilante, asmatica e l'uomo. Fatto. Ecco qui. Non c'è bisogno che il signore si disturbi. Io prendo un taxi. Credo che voglia restare ancora un pochettino ad assaporare la sua nuova casa. Capisco. Le persone amano molto la casa. La signora che abitava qui, poverina, come pianta i giorni in cui se n'è andata. Nessuno la poteva consolare. Ma la vita a volte è obbliga. La malattia, la vedovanza. Quello che deve essere, deve essere. E non c'è niente da fare. Allora l'aspetto domani. Adesso solo con la chiave in mano, Riccardo Reis percorso di nuovo tutta la casa. Non pensava. Guardava solamente. Poi andò alla finestra. La plua delle navi era rivolta verso il monte. Segno che la marea calava. I vecchi erano ancora seduti sulla stessa panchina. Quella sera Riccardo Reis disse a Lidia che aveva affittato una casa. Lei pianse qualche lacrima per il dispiacere di non poterla avere. Dall'ora in poi, davanti agli occhi a tutte le ore. Esagerazione di sua, sua passione, che a tutte non le poteva vedere. Quelle notturne. Sempre a luce spende per i vedi spioni. Le alte, le ore mattutine e pomeridiane. Rifuggendolo. O fingendo eccessivo rispetto alla presenza dei testimoni. Offrendo così un spettacolo alla malizia. Per i momenti inattese l'occasione di prendersi una completa divincita. Lui la consolò. Smettila. Ci vedremo nei tuoi giorni di libertà. Con un'altra calma. Sempre se lo vuoi. Parole queste li conoscevo in anticipo della risposta. Ma come? Non dovrei volerlo. Glielo ho già detto. E quando è che si trasferisce a casa sua? Non appena sarà a posto. Ma biglione. Ma manca tutto. Bianche di estoviglie. Non ho bisogno di molto. Il minimo per cominciare. Qualche scivolo a mano. L'ensuolo a coperte. Poi poco a poco ci metterò il resto. Se la casa è stata chiusa avrà certo bisogno di essere pulita. Ci vado io. Che idea. Troverò qualcuno lì del quartiere. Non lo permetto. Lei a me. Non ha bisogno di chiamare altri. Sia una brava ragazza. Insomma. Sono come sono. E questa è una di quelle frasi che non ammetto in replica. Ciascuno di noi dovrebbe sapere molto bene chi è. Per lo meno non ci sono mancati i consigli fino al tempo dei greci e dei latini. Conosci te stesso. Ammiriamo questa l'idea che non sembra avere dubbi. Il giorno dopo Riccardo Reiss andò per i negozi. Comprò due cambi completivi anche lì a letto. Asciugamani per il viso. Da piedi e da bagno. Per fortuna non si doveva preoccupare dell'acqua, del gas e della luce. Non hanno stato tagliate le rispettive compagnie. Se non vuole fare i contratti nuovi, restano a nome dell'inquilino precedente. Questo gli aveva detto l'amministratore. E lui fu d'accordo. Comprò anche alcune pentole di smalto e alluminio. Bolito da dei latte, caffettiera, tazze e piattini. Dietro agli oli, caffè, tè e zucchero. In necessario per la colazione del mattino, che pranzi e cene avrebbe consumati fuori. Si riflettiva in queste faccende. Memo, nei suoi primi tempi, a Regione Nero, quando senza detto di nessuno, aveva compiuto gli stessi lavori di distrazione domestica. Nell'intervallo di questo vai e vieni, scrive una breve lettera a Marsenda. Le dava il nuovo indirizzo. E' stata ordinare la coincidenza molto vicino, proprio lì, al posto dove si erano incontrati. E' così vasto il mondo. Gli uomini, come gli animali, hanno il loro terreno di caccia. Il loro cortillo o pollaio. La loro ragnatela. Da quest'ultimo paragone, è fra i migliori. Il ragno ha lanciato un filo anche a Porto. Un altro fino a Rio. Ma sono stati semplici punti d'appoggio. Riferimenti, pilastri, banchine d'ormeggio. E' nel centro della tela che si giocano la vita e il destino. Del ragno e delle mosche. Verso la fine pomeriggio, Riccardo Reis si prese un taxi. Passò da un negozio all'altro a ritirare le cose acquistate. All'ultimo momento vi aggiunse qualche pasticcino. Frutta candita, biscotti di vario tipo. Portò tutti il ruolo di Santa Cateina. Arrivo all'orario in cui i due vecchi rientravano a casa. Laggiù nel cuore del quartiere. Mentre Riccardo Reis caricava i pacchi e li portava su. In tre viaggi, non si muossero, vide accendersi le luci al secondo piano. Guarda, vive nella casa di Dona Luisa. Si allontanarono solo quando il nuovo inquilino comparve a una finestra, dietro i vetri. Erano nervose, eccitati, a volte capita. E meno male, si spezia la monotonia dell'esistenza. Sembrava che fossimo giunti alla fine della strada. Invece, era solo una curva che si affacciava su un altro paesaggio su nuove curiosità. Dalla sua finestra, senza tende, Riccardo Reis si guardava il fiume largo. Poter vedere meglio spense la luce della stanza dove si trovava. Scendeva dal cielo un polvisco di luce grigia che si spegneva nel posarsi. Sulle acque scure scivolavano i traghetti già coi fanali accesi. Costeggiando le navi da guerra, le chiatte ormeggiate e quasi nascondendosi dietro la sagoma dei tetti. Un'ultima fregata diretta alla darsena. Come un disegno di bambino. Un pomeriggio tanto triste che dal fondo dell'anima sale su una voglia di piangere. Proprio qui, con la fronte appoggiata al vetro. Separato dal mondo, dal vapore della respirazione condensato sulla superficie liscia e fredda. Vedendo a poco a poco svanire la figura contorta di Amada Mastor. Mentre perde significato, la sua furia contro la figurina verde che lo sfida. Da qui, invisibile e priva di significato contro lui. Era calata la sera, quando Riccardo Reis uscì. Cenò in Rua de Cosa Reiros, un ristorante a mezzanino, col soffitto basso. Solo fra uomini che erano soli. Che potevano essere? Che vite potevano avere? Per qualche motivo attratte da questo luogo. Masticando il baccalà o il fritto misto. La bistecca con patate. Quasi tutte accompagnandosi con vino rosso. Più composti d'aspetto che di modi. Battendo sul bicchiere per chiamare il cameriere. Stuzzicandosi con forza e verutà, dente dopo dente. O tirando via quella pinza formata al pollice e dall'indice filamento. La fibra dei tente. Qualcuno ruttando. Qualcuno allargandosi la cintura. Sbottonandosi il panciotto. Allentando le bretelle. Riccardo Reis pensò. Adesso tutti i miei passi saranno così. Questo rumore di posate. Queste voci di camerieri che urlano nel retro. Una minestra o mezze di seppie. Maniera rapida di ordinare mezza porzione. Le voci sono attudite. L'atmosfera lucubre. Nel petto freddo il grasso si rapprende. Ancora non hanno sparicchiato il tavolo. Accanto ci sono macchie di vino sulla tovaglia. Resti di pane. Una sigaretta mal spenta. Ah, come è diversa la vita rotta per canza. Anche se non è di prima classe. Riccardo Reis sento una violente nostalgia di Ramon. Che tuttavia arriva da giorno dopo. Oggi è giovedì. Andrà via solo sabato. Sa bene però Riccardo Reis quanto valgono di solito nostalgie del genere. Tutto dipende dalle abitudini. L'abitudine che si perde. L'abitudine che si prende. E da così poco tempo a Lisbona. Meno di tre mesi. E già a Reggio Nero gli sembra un ricordo di un passato remoto. Forse di un'altra vita. Non la sua. Un'altra fra le innumerevoli. Così pensando. Suppone che a questa stessa ora di Cattorei stia cenando anche a Porto. O pranzando a Reggio Nero. Se non in qualsiasi altro luogo della terra. Se la dispersione è andata così lontano. Per tutto il giorno non aveva piovuto. Ha potuto fare le sue spese in totale tranquillità. E tranquillamente ora sta tornando in albergo. Quando arriverà dirà a Salvatore che va via sabato. Niente di più semplice. Me ne vado sabato. Ma si sente come un adolescente. Che poiché il piede si è rifiutato e dargli le chiavi di casa. Osa prendersela da solo. Confidando nella forza che hanno sempre i fatti compiuti. Salvatore è ancora dietro al banco. Ma ha già detto a Pimenta che appena uscito l'ultimo ospite della sala da pranzo. Se andrà a casa. Un po' prima del solito. Sua moglie raffreddata. E il frutto di stagione. Aveva detto Pimenta. Familiarmente. Si conosco da tanti anni. E Salvatore ha brontolato. Sono io che non mi posso ammalare. Dichiarazione sibinia di significato vario. Che può essere sia la mia intera di chiama solito di ferro. Sia un avvertamento delle potenze malefiche. Di quanto mancherebbe all'albergo il suo direttore. Riccardo Reis. Entrò. Rivolse la buonasera. Un attimo uscito si chiamò in disparte Salvador. Poi pensò che sarebbe stranto ridicolo quel segreto. Murmurare per esempio. Senta signor Salvador. Non avrei certo voluto dire. Scusi. Ma sa come sono le cose. La vita ha compito tanti giri. Ai giorni succedono le notti. E si dà il caso che vada via dal suo ottimo albergo. Trovato casa. Spero solo che non sarà prenda male. Restiamo amici come prima. E all'improvviso si ritrovò a sudare per l'agitazione. Come se fosse ritornata la sua adolescenza di scolare o di gesuiti. Inginocchiato davanti alla porticiera del confessionale. Ho mentito. Sono stato invidioso. Ho avuto pensieri impuri. Mi sono toccato. Adesso si avvicina al banco. Salvador ha ricambiato la buonasera. Si volta indietro per prendere la chiave del gancio. Allora il cartore si precipita. Dove proferì le parole liberatrici prima che lui lo guardi. Prendolo alla sprovvista. In contropiede. Poi lo sgambetto. Signor Salvador. Per favore mi ripari il conto. Rimango dal banco solo fino a sabato. E dopo averlo detto. Con questa secchezza subito si pentì. Perché Salvador era vera immagine della sorpresa dolorata. Vittima di un colpo basso. Lì con la chiave in mano. Non si tratta così di un direttore che si è dimostrato un così buon amico. Quello si doveva fare era chiamarlo da parte. Senta signor Salvador. Io non avrei voluto. Scusi. Invece no. Gli ospiti sono tutti ingrati. E questo è peggior di tutti. Che è venuto a sbattere qui sempre ben trattato. Nonostante si sia messo con una cameriera. Fosse stato un altro l'avrei messo in strada. Lui e lei. Oppure mi sarei lagnato la polizia. Mi aveva ben avvertito Vittor. Ma questo è il mio buon cuore. Tutti approfittano di me. Ah. Ma giuro che è l'ultima volta che mi fregano. Se i secondi minuti fossero tutti uguali. Come li vediamo indicati sugli orologi. Non sempre avremmo il tempo di spiegare qualche dentro di loro succede. I mitologhi contengono. Per nostra fortuna gli episodi di più ampia significazione. Capita che avvengono i secondi lunghi e i minuti delatati. Perciò è possibile discutere con l'indugio. E in particolare certi casi. Senza infrangere scandolosamente la più sottia delle tre unità drammatiche. Che è precisamente il tempo. Non sia perché il nostro servizio l'ha scontentato in qualcosa. E queste modeste e professionali parole comportano il pericolo di susciterle un equivoco. È l'acqua ironia che facilmente vi potremmo trovare. Se pensassimo a Lidia. Però no. In questo momento Salvador vuole solo esprimere la delusione e il dispiacere. Niente ha fatto il signor Salvador. Protestò con vemenza a Riccardo Reis. Al contrario. Ma è che ho trovato casa. Ho deciso di rimanere definitivamente a Lisbona. Uno ha bisogno di un proprio angolo per vivere. Ah. Ha trovato casa. Allora se vuole le presto Pimenta per aiutare a trasportare le sue valigie. Sì a Lisbona ovviamente. Sì a Lisbona. Non me ne occuperò io grazie. In qualsiasi facchino le può portare. Pimenta ciò autorizzato dall'alto in virtù delle preziosi offerte sui servici. Se dici. Curioso per conto suo immaginando la colostra di Salvador. Dove sarà che vada a abitare? Si permise la confidenza di esistere. Ma perché dottore si deve mettere a pagare un facchino? Le porto io le valigie? No Pimenta. Grazie molte. E per prevenire alte insistenze. Riccardo Reis face anticipatamente il suo piccolo discorso di congedo. Voglio dirle signor Salvador che conservo il miglior ricordo al suo albergo dove sempre sono stato trattato molto bene. Dove sempre mi sono sentito come a casa mia circondato di cure e attenzioni ineccepibili. E ringrazio tutto il personale senza eccezione per l'affettuosa atmosfera di come avete circondato in questo mio rientro in patria da cui non penso a andar via più. A tutti i rezi infinite. Non erano tutti lì ma tanto erano uguali. Un discorso come questo Riccardo Reis lo avrebbe rifatto. Si era sentito così ridicolo mentre parlava. E peggio che ridicolo dato che aveva usato in molti elementi parole che potevano aver anche risvegliato pensieri sarcastici tra i suoi ascoltatori. E' impossibile che non avessero pensato a Lidia quando lui stesso parlava di cure, affetti e attenzioni. Chissà perché le parole si servono tante volte di noi. Le vediamo avvicinarsi, minacciare e non siamo capaci di allontanarli, di tecerle. E così finiamo col dire quel che non avremmo voluto. E' come l'abisso irresistibile. Cadremo e andiamo avanti. Con poche parole Salvadori cambiò. Ma non ce l'è sempre stato bisogno. Mi sarebbe abbassato di ringraziare a sua volta per l'onore di aver avuto il dottore Riccardo Reis come ospite. Non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Io e tutto il personale avremmo nostalgi di lei. Dottore, non è vero? Pimenta. Con questa ospita e domanda si risolse la solennità del momento. Sembrava che se lo citasse le manifestazioni di un sentimento unanime. Ed era proprio il contrario. Una strizzatina d'occhi in fondo e maliziosa. Non so se ti capisci. Riccardo Reis tornò in sé. Buonanotte. E salì in camera. Immaginando che rimanessero a parlargli alle spalle. A dir male di lui. E subito pronunciando il nome di Lidia. Che altro ancora. Cioè che non pensava che dicessero questo. Sta attento. Dopodomani. A chi è il facchino? Voglio sapere dove si trasferisce. L'orologio delle ore talmente vuote. Che anche se brevi. Come di tutte si solite dire. Tanne quelle da quali erano destinati gli episodi di ampia significazione. Come si è dimostrato prima. Sono talmente vuote quelle ore. Che le lancette sembra si trascinano all'infinito. Non passa la mattina. Non se ne va il pomeriggio. La sera non finisce. Fu così che Riccardo Reis visse le sue ultime ore nell'albergo. Voglio per scopo l'inconsapevole che lo vedessero tutto il tempo lì. Forse per non sembrare ingrato e indifferente. In un certo modo glielo riconobbero. Quando Ramon disse. Mentre gli versava la minestra nel piatto. Allora dottore se ne va. Parole che furono di aggrandistezza. Come se volessero dire umili servitori. Salvatore fece spreco del nome di Lidia. La chiamava per tutto e per niente. Le dava ordini e subito dopo controordini. E ogni volta le scrutava con attenzione e atteggiamenti. Il viso, gli occhi. In attesa di trovare segni di specere. Tracce di lacrime. Cosa naturale una donna che sta per essere abbandonata. E già lo sa. Invece non sono mai viste pace e serenità come queste. Sembra una creatura a cui non pensi nessuna coscienza. Debolezza della carne. Qualcolata vendita. E Salvador si irrita per non aver punito di moralità. Fin dal nascere al sospetto. O quando era divenuta fatto pubblico e notorio. Cominciando con i mormorì di cucina e di guardiola. Adesso è tardi. L'ospito se ne va. La cosa migliore è non rimestare nel fango. Tanto più che seminando se stesso. Non si trova esente. Da colpe. Saputo e tacciuto. È stato complice. E che mi ha fatto pena. Veniva dal Brasile. Dal Sertau. Senza una famiglia che lo aspettasse. L'ho trattato come un parente. E in fin dei conti. Tra le quattro volte ha avuto questo pensiero assolutorio. Adesso a voce alta. Appena 201 sarà libera. Voglio una pubblicità totale. Da cima a fondo. C'è andrà una distinta famiglia di Granada. E mentre Lidia si ritirava dopo l'ordine. È rimasta a guardare l'autantità dei suoi fianchi. Fino ad oggi è stato un onesto direttore. Incapace di congiungere il servizio con l'abuso. Ma stavolta ce ne rivinci da prendersi. O ci sta o le mette in mezzo alla strada. Speriamo che non vada oltre questo sfogo. Sono morti gli uomini che si spaventano quando arriva l'ora. Il sabato dopo pranzo. Dicardo Re si recò alla Chiado. Lì contattò i servizi di due facchini. E per non scendere insieme a loro. Come una scorta d'onore. Ruado alla crim. Fisso l'orario perché si trovassero all'albergo. Li aspettò in camera. Con quella stessa impressione di staticamento. Che aveva provato quando aveva visto cadere gli ormeggi. Delle Agne Brie. Al moro di Rio de Janeiro. È solo seduto sul divano. Lidia non si farà vedere. Così si erano messi d'accordo. Uno scappiccino di passi pesanti al corridoio annuncia i facchini. Con loro viene pimenta. Stavolta non deve sforzarsi. La massima aiuterà con lo stesso gesto che avevano fatto Riccardo Reisi e Salvador. Quando era toccata a lui trasportare questa valigia pesante. La grande. Una mano sotto. Un avvertimento sulle scale. Un consiglio. Inutile per chi della scienza dei carichi ha imparato tutto. Riccardo Reisi andò a congelarsi da Salvador. Lascio una mancia generosa per il personale. La distribuisco come crede. Il direttore ringrazia. Alcuni ospiti che si trovano lì davanti sorridono. Vedendo come in questo albego si non creano buone amicizie. Una setta di mano. Quasi un abbraccio. Gli spagnoli si commuovono per l'armonia. Non fa meraviglia. Gli alimenti. Il loro paese è diviso. Sono queste contraddizioni peninsulari. Giù è stata premente già domandata ai facchini per dove il trasporto. Ma loro non lo sanno. Il padrone l'ha detto. Uno di loro ha supposto che fosse vicino. L'altro ne ha dubitato. Ma tant'è. Pimenta conosce due uomini. Uno di loro ha già prestato servizio per l'albergo. Il punto di ferimento è all'occhiado. Quando vorrà chiarire questo caso non dovrà andare lontano. Riccardo, lei si dice. Qui c'è un ricordino per lei. Pimenta risponde. Grazie mille, signor dottore. Quando vorrà qualcosa avrà sorodo a dirlo. Tutte queste parole sono inutili. E questo è ancora il meglio che ne possiamo dire. Quasi tutte. In realtà ipocrite. Avrà ragione quel francese che ha detto che la parola è stata data all'uomo per dissimulare il pensiero. Ma avrà davvero ragione. Alla fine fine sono questioni sulle quali non dobbiamo dare giudizio per intorno. La cosa più certa è che la parola è il meglio che si possa trovare. Il tentativo, sempre frustrato, per esprimere ciò che con la parola chiamiamo pensiero. I due facchini sanno ormai dove devono portare le valigie. Riccardo Reis li ha detto dopo che si era andato di attimienta. E ora risalgono la strada. Camminano sul secciato perché il trasporto riesca più facile. Non è un gran peso per chi ha già trasportato pianoforte e altri per chiedermi a spalla. In testa procede Riccardo Reis. Lontano a sufficienza per non sembrare la guida di questa spedizione. Vicino abbastanza perché si sentono accompagnati i facchini. Non c'è nulla di più delicato di queste relazioni fra classi. La pace sociale è una questione di tatto, di finezza, di psicologia. Per dire tutto con una parola sola, o magari con tre, se l'uno dei tre coincidono esattamente con il pensiero è il problema la cui soluzione avevamo già rinunciato. A metà strada i facchini devono accostarsi da un lato e quindi ne approfittano per deporre il peso. Respirare un po', perché sta scendendo una fila di tram stipati di gente bionda di capelli e rose di carnegione. Sono oggi tanti tedeschi, operai del fronte tedesco del lavoro, quasi tutti vestiti da bavarese, calzoni corti, camicie bretelle, il cappellino della testa stretta. Si può vedere facilmente perché alcuni tram sono aperti, gabbie ambulanti dove la pioggia entra quando vuole, poiché a poco si avvola le tendine di telestrisce, che di anno nella sua civiltà portoghese, questi lavoratori alieni, figli di tanto selezionata razza, che saranno pensando in questo momento dei rustici che si fermano per guardarli passare, quell'uomo bruno, impermabile e chiaro, così più quella barba lunga, malvestiti e sporchi, che tornano a estarsi, il calico in spalle ricominciano a salire, mentre gli ultimi tram stanno passando, ben ventitré, se qualcuno ha avuto la pazienza di contarli, dirette alla torre di Belém, al monastero dei Renanus, e altre meraviglie di Sbona, come Alges, da Fundo, e Cruz Chebrada. A testa bassa i facchini hanno attraversato la piazza dove c'era sotto il poeta epico, effetto probabilmente del calico. A testa bassa le ha seguiti Riccardo Reis, effetto di certo la vergogna di camminare così senza niente, ma in tasca non ha portato a Bresia neanche un pappagallo, e meno male che non avrebbe avuto il coraggio di percorrere queste strade inalberando su un trespo lo stupido animale, e la gente a provocarlo. Quale zampa, Loreto, o forse l'hanno detto, per spirito saggine, due sitana, ai tedeschi ha spasso sui tram. Siamo quasi arrivati. In fondo a questa strada si vedono già le palme dell'alto di Santa Caterina. Le monte e l'altra riva spuntano nuvole spesse che sono come donne grassi alla finestra, una metafora che farebbe stringere le spalle di sprezzo a Riccardo Reis, per il quale, poeticamente, le nuvole malapenne esistono. Una volta nuvole rade, un'altra nuvola è fugace, bianca e così inutile. Si piove solo da un cielo che si è abbuiato, perché Apollo ha verato la sua faccia. Questa è la porta d'ingresso della mia casa. Ecco la chiave e le scale, il primo piano, il secondo, qui abiterò io. Non si sono aperte finestre quando siamo arrivati, non si aprono altre porte. In questo palazzo sembra si sia ordinato ad abitare le persone meno curiosi di Lisbona. Oppure spirciano dei spioncini, con le pupille lampeggianti. O l'entriamo tutti, le due valigie piccole, la più grande, suddividendo lo sforzo. Si paga il prezzo concordato, l'attesa mancia. Odore intenso di sudore. Quando avrà di nuovo bisogno di noi, padrone, siamo sempre lì. Riccardo Reis non ha avuto dubbi, visto che lo dicevano con tanta decisione, ma non ha risposto. E io sarò sempre qui. Un uomo si è spiato, impara a dubitare. Tanto più che le idee sono così costanti. Certi soltanto loro per scienza, noi per esperienza, che tutto finisce. E sempre prima di tutto il resto. I facchini se ne erano andati. Riccardo Reis chiuse la porta del piano, poi senza accendere la luce percorsa tutta la casa. I suoi passi poi mentonudo e cheggiavano sonori fra i mobili sparsi, vuoti, che odoravano di una fetalina vecchia, di un'antica carta velina che ancora fodera alcuni cassetti, di danicio che si accumula negli angoli, e con maggiore intensità delle parti della cucina e del bagno, di serrazione di tubi di scarico, calato il livello dell'acqua nei sifoni. Riccardo Reis e per i rubinetti tirano uno o due volte la catena dello sciacquone. La casa si riempì di rumori, lo scorre dell'acqua e vibra i dei tubi, l'inticchettivo del contatore, poi a poco a poco il silenzio tornò. Nel reto edificio ci sono dei cortiletti con bianchieri a stesa, piccolo aiole di ortaggi color cenere, scodelle, vasche di cemento, la cuccia di un cane, conigliere e pollai, mentre riguardava il caldo Reis e fetteva il suo enigmo semantico, per cui coniglio dava conigliera e gallina pollaio, transinando ogni genere nel suo contrario o opposto, o complementare secondo il punto di vista e l'umore del momento. Tornò nella parte intera della casa, in camera da letto, guardò dalla finestra sporca la strada deserta, il cielo l'ha coperto, eccolo là, livido contro il colore plumbio delle nuvole, Adam Astorchi urlava in silenzio, alcune persone guardavano le navi, intanto in tanto alzavano la testa per vedere se la pioggia si avvicinava, i due vecchi chiacchieravano seduti sulla stessa panchina, allora Riccardo Reis sorrise, ben fatto, erano talmente distratti che non si sono accorti neanche del rio delle valigie, si sentiva divertito come se avesse appena finito di giocare a una partita innocente, in amicizia, lui che non è mai stato tipo da questi giochi, era ancora con l'impermeabile indosso, come se fosse entrato lì per andare via subito, vista da medico, secondo lo scettico detto popolare, ora abito in spezzolio di un luogo dove forse sarebbe andata a vivere un giorno, e in definitiva, lo disse a voce alta, come un messaggio che non avrebbe dovuto dimenticare, io abito qui, è qui che abito, questa è la mia casa, e questa, non ne ho altre, lo avvolse allora l'imprevisa paura, la paura di chi in un profondo sotterraneo, spinge una porta che si apre sul buio di un altro sotterraneo ancora più profondo, e sull'assenza, il vuoto, il nulla, il passaggio verso non essere, si tolse l'impermeabile la giacca e sentì freddo, come se stesse ripetendo gesti già fatti un'altra vita, andò ad aprire valigie, metodicamente le disfece, i vestiti, le scarpe, le carte, i libri, e anche tutti gli altri minuscoli oggetti, necessari o inutili, che ci trasportiamo di casa in casa, fili incrociati di un bozzolo, trovò la vestaglia e l'indossò, adesso già un uomo a casa sua, accese la lampada appesa al soffitto, doveva comprare un lampadario, un abajur, un globo, un paralume, una qualsiasi di queste parole potrà servirli, purché non gli abbagli gli occhi, come succede ora, distatto a questi riordinamenti, non si accorsi subito che aveva cominciato a piovere, ma un brusco colpo di vento, lanciò contro i vetri uno spulso d'acqua, che razza di tempo, si avvicinò alla finestra per guardare la strada, là sui macciapiedi di fronte c'erano i vecchi, come insetti attratti alla luce, e entrambi erano lucubi come insetti, uno alto, l'altro basso, ciascuno con proprio ombrello, con la testa all'insù come la mantide, stavolta non furono intimidite la figura che la comparsa e le osservava, ci fu bisogno che aumentasse la pioggia, perché si decidesse ad avviarsi giù per la strada, a sfuggire all'acqua che scorreva dai cornicioni, appena a casa saranno improverate dalle mogli, se le hanno. Tutto abbognato, guarda, capace che impregnino le pombo mite, e poi c'è la schiava qua per curarlo, e loro diranno, a cosa di donna Luisa c'è già qualcuno, un signore solo, non si vede nessun altro. Pensa, una casa così grande per un uomo solo, mal utilizzata, ci si chiede come hanno fatto loro a sapere che la casa è grande, una risposta sicura non c'è, può darsi che il tempo di donna Luisa ci abbia lavorato a ore. Le donne di questa casa prendono quello che capita quando i guadagni dell'uomo sono pochi, o lui si attrae per spendere in vino e in amanti, e allora ecco che le sventurate si mettono a sfregare scale e lavare i panni. Alcune si specializzano, lavano solo panni o sfregano solo scale, e così diventano maestri e mestiere. Hanno regole, gioia nel bianco del lenzuolo e nel giardino dei gradini. Di quelle si dirà che potrebbero servire come tovagli d'altare. Di questi, che se ci cadesse la marmellata, la si potrebbe mangiare senza schifo. Ma dove ci sta portando la digressione oratoria? Adesso, con il cielo coperto, la sera non tarda. Quando i vecchi erano su marciapiede a guardare verso l'altro, sembrava che esponesse la faccia alla chiara luce del giorno. Effetto solo della barba bianca di otto giorni. E anche oggi che sabato sono andati a sedersi sulla poltrona del barbiere. Se mai ci vanno. Pavemente usano il rasoio. Domani, migliorato il tempo, li vedremo qui con le facce sbarbate, increspate di rughe e di allume. Bianche solo di capelli bianchi. Parliamo del più basso. Quello altro non ha più di qualche sconsolato pelo sopra le orecchie. Insomma, tornando al punto di partenza, quando erano lì su marciapiede era ancora giorno, sebbene di lì per andarsene. Quindi dopo aver asservato con una certa calma l'inquilio del secondo piano, dato che cominciò a piovere più forte, si erano avviati giù per la strada. Avevano continuato a camminare e il giorno a farsi scuro. Giunti a quell'angolo era già puio pesto. Fortuna che siano accesi i lampioni e i vetri siano ricoperti di perle. Ma di questi lampioni c'è da dire che non è stato come certamente sarà un giorno, senza mano visibile di un uomo, quando la fata elettricità con la sua bacchetta magica arriverà sull'alto da Santa Caterina e dintorni. Tutti gloresalmente accesi al tempo stesso. Oggi dobbiamo aspettare che vengono ad accenderli a uno a uno. Con la punta del bastone infuocato, l'uomo apre la porticina della lucerna. Con l'ingancio, c'era il rubinetto del gas. Infine questo fuoco di Sant'Elmo lascia per le strade delle città segnali che è passato. Un uomo porta con sé la luce e la cometa di Alley con la sua scia siderale. Così gli dei avranno visto Prometeo, osservando dallo su. Però si chiama Antonio, questa lucera. Riccardo Reis era affronteggelata, l'ha appoggiato al vetro e se ne è dimenticato, guardando la pioggia cadere. Poi udendo nel suo rumore. Fino a che non è venuto il lampionaio. E allora ogni lampione aveva avuto il suo folgore e la sua aura. Sulle spalle di Adam Astor cade una luce ormai smorta. Il dorso e il culio brilla. Quando sarà per l'acqua che viene dal cielo? Sarà un sudore di agonia perché la dolce tete e il sorriso di scherno è maledizione. Quale sarà l'amore di Ninfa sufficiente per sostenere quello di un gigante? Adesso ormai lo sa quando valeva l'abbondanza promessa. Lisbono è un gran silenzio che rumoreggia. Niente più. Riccardo Reis è tornato le sue faccende domestiche. Ha sistemato i vestiti, le camicie, i fazzoletti, le calze, pezzo per pezzo. Come se stesse mettendo a posto uno di Saffica lottando laboriosamente con la metrica di lottante. Questo colore di cravatta che è appesa richiede il colore di un abito da comprare. Sul materasso che è stato di Donna Luisa e che lo ha lasciato. Di certo non quello su cui è stato dietro aveva perduto la virginità ma su cui deve aversi amminato per l'ultimo figlio. Dove è agonizzato ed è morto il caro sposo. Un giudice di corte d'appello. Su questo materasso Riccardo Reis ha disteso le sue lenzuola nuove ancora odorose di nuovo. Le due coperte felpate il copiletto chiaro. Ha infilato alle fede il guanciale e il cuscino di lana. Fa adesso meglio. Con la sua maschile mancanza di grazia uno di questi giorni verrà a Lidia forse domani a ricomporre con le sue mani magiche perché è di Donna questo disordine questa tristezza rassegnata e le cose le ammesse. Riccardo Reis porta le valigie in cucina appende le leggi da stanza da bagno e le asciuga mani. in un armadietto bianco che odora di chiuso ripone agli oggetti a toilette. Abbiamo già visto che è un uomo attento al proprio aspetto solo per un sentimento di dignità. Infine non ha altro da fare che sistemare i libri e le carte in libreria dello studio nera e contorta sull'esclamania tra ballante e nera. Adesso è a casa. Sa dove sono i suoi punti d'appoggio la rosa dei venti nord, sud, est, ovest. Chissà che non venga una tempesta magnetica che faccia impazzire questa bussola. Sono le sette e mezza la pioggia non è cessata. Riccardo Reis è seduto sul bordo del letto alto. Ha guardato la triste stanza la finestra senza tendere e tentaggi. Gli è venuto in mente che forse i vicini di fronte lo hanno spianto curiosi. Sussurrandosi si vede tutto là dentro e augustano il petto golezzo per il futuro godimento dei spettacoli più stimolanti che questo di un uomo seduto sul bordo di un letto antico solo con il viso nascosto dentro una nuvola. Ma Riccardo Reis è alzato ed è andato a chiudere gli scuri. Adesso la camera è una cella. Quattro pareti ciechi. La porta si aprisse. Starebbe su un'altra porta o su un setterraneo buio e profondo. Lo abbiamo già detto. Questa ce la potevamo risparmiare. Tra poco l'hotel Braganza il maestro Afonso farà i cheggiare il suo risorio gonco i tre colpetti di Vatelle. Scenderanno gli ospiti portoghesi e gli ospiti spagnoli. Nuestros hermanos los hermanos tuyos. Salvador sorriderà a tutti. Signor Fonseca signor Dottor Pasquale gentile signora Don Camillo il Don Lorenzo e un nuovo ospite di 201 sicuramente il Duca d'Alba o di Minaceli che si tira dietro la spada colada mettendo un ducato e la mano tesa di Lidia che come serva si genufletta e supporta sorridendo il pizzicotto sulla ciccia del braccio la mano porterà il brodo oggi c'è una specialità e non mente e dalla profonda scodella sale il fragante profumo di gallina dai piatti fondi si innalza il vapore inebriante non ci soffrenda che lo stomaco di Riccardo Reessi dia qualche segno in realtà le ore di cena però piove anche con gli sportelli della finestra chiusi si sente il crepitio dell'acqua che cade sui marciapiedi dai cornicioni dalle grondelle spezzate chi sarà mai tanto audace da uscire in strada con un tempo simile se non per qualche dovere estremo salvare il padre della forca per esempio in un suggerimento perché c'era ancora vivo la sala da pranzo dell'otte braganza è il paradiso perduto e come un paradiso che si è perduto a Riccardo Reessi piacerebbe tornarci ma restarci no va in cerca dei pacchi di biscotti dei frutti canditi con essi inganna la fame da bere solo l'acqua del rubinetto che sa di acido fenico altrettanto spravvisti devono essersi sentiti Adam ed Eva quella prima notte dopo la cacciata dell'Eden guarda caso anche per loro l'acqua veniva giù che Dio la mandava se no si è fermati entrambi nel vano della porta Eva chiesa Adamo vuoi un biscotto? e siccome ovviamente ne aveva solo uno l'aveva diviso in due pezzi gli aveva dato la parte più grossa e allora ci venne l'abitudine Adamo massica lentamente guardando Eva che sbocca un cielo il suo pezzetto inclinando la testa come un un cielo curioso al di là di questa porta chiusa per sempre lei gli aveva dato la mela l'aveva offerta senza intenzione di malizia né consiglio di serpente perché era nuda perciò si dice di Adamo che si raccorse di lei che era nuda solo quando morse la mela come di Eva che non ebbe il tempo di vestirsi però le come giri di campo che non finono né tessero sulla sola della porta i due avevano passato bene la notte con un biscotto per cena Dio dall'altra parte le ascoltava triste escluso da un festino a cui non aspettava più a lui per vedere e che non aveva previsto più tardi si inventerà un altro detto dove uomo e donna si congiungono Dio sarà fra loro da queste nuove parole apprenderemo che il paradiso in fondo non era dove ci avevano detto ma qui dove Dio dovrà andare ogni volta se vorrà risentirne il sapore ma in questa casa no Riccardo Reise è solo lo ha discostato il dolce intenso della pera candita pera non mela è ben vero che le tentazioni non sono più quelle di una volta è andato in bagno a lavarsi le mani appiccicose la bocca i denti non sopporta questa dolcezza una parola che non è portoghese né spagnola imita solo l'italiano ma è l'unica che propriamente parlando gli si adatta bene in questo momento la solitudine gli pesa come la notte la notte lo impiglia come vischio per lo stretto e lungo corridoio sotto la luce verdasta che scende dal soffitto è un animale marino appesantito ai movimenti una tartaruga indifesa senza guscio ma se adesso è la scrivania fruga fra le sue carte coi versi odile e definite e tali sono rimaste perché tutto deve avere un nome legge qui e là e a se stesso domanda se è lui quello che li ha scritti perché leggendo non si riconosce in ciò che è scritto era diverso questo disinteressato calma e rassegnato uomo per questo proprio quasi dio perché è così che sono gli dei rassegnati calmi disinteressati ad assistere morti in modo confuso pensa che deve organizzare la propria vita il tempo decidere che uso farà di mattino pomeriggio e sera colligarsi presto e presto alzarsi cercare uno o due dei ristoranti che servono cibo sano e semplice rivedere e correggere poesie per il libro di un giorno futuro cercare un appartamento per lo studio conoscere gente viaggiare per il paese andare a porto con Imbra far visita del dottor Sampaio incontrare per caso Marsenda nel Piopeto a questo punto ha smesso di pensare a progetti e intenzioni gli ha fatto pena l'invalida poi la pena si è trasferita su se stesso e la pietà di se stesso qui seduto queste due parole le ha scritte come principio di una poesia ma subito si è ricordato che un altro giorno aveva scritto sicuro sto sulla colonna salda dei versi su cui mi affido che ha redatto una volta un simi testamento non può dettare un altro contrario non sono ancora i dieci quando Riccardo Reiss va a coricarsi la pioggia continua a cadere si è portato a letto il libro ne aveva presi due ma la stata facendo ha lasciato il dio dell'Abedinto dopo dieci pagi del sermone della prima domenica di quaresima sentì che gli si giravano le mani così fuori dalle coperte non bastava riscaldarlo sta leggendo queste parole ardenti divoltate la vostra casa cercate la casa più vile che sia e troverete che la vostra stessa anima posò il libro sul comodino si rannicchiò con un rapido brivido che non la piega dell'insuola fise la bocca chiuse gli occhi che avrebbe dovuto spegnere la luce ma quando l'avesse fatto si sarebbe sentito in obbligo di addormentarsi e ancora non lo voleva le notti così fredde di solito l'idea gli metteva una bottiglia d'acqua calda fra le linsuola a chi lo starò facendo ora? al duca di Menaceri calmati il cuore giuroso il duca si è portato la duchessa chi di passaggio ha pezzicato il braccio di Lidia è stato l'altro duca quello d'Alba ma questo è vecchio malato impotente porta una spada di ratta giura che la colada decide compadore passa dai padri in figlio nella famiglia degli Alba perfino un grande di Spagna è capace di mentire senza accoggersi Enrico Aldo Reis ormai dormiva lo seppe quando si svegliò di soprassalto qualcuno gli aveva bussato alla porta sarà Lidia che ci era fatto uscire dal berg e venire con questa pioggia a passare la notte con me donna imprudente poi pensò stavo sognando e così pareva che non si dì altro rumore per un minuto forse ci sono i fantasmi in casa perciò non ero riuscita a affittarla così centrale così grande di nuovo bussarono toc toc discretamente per non spaventare di Caldo Reis si alzò infirò i piedi nelle pantofoli si avvolse nella vestaglia attraverso passo dopo passo la camera uscì in corridoio il previdente e domandò guardando la porta come se quella lo minacciasse chi è? la voce gli uscirò che tremola tossicchiò tornò a domandare la risposta venne con un murmurio sono io non era un fantasma era Fernando Pessoa proprio oggi doveva essersene ricordato aprì ed era proprio lui col suo abituccio nero a capo scoperto senza capotto né cappello improbabile dalla testa e piede tanto più perché venendo fuori neanche una goccia d'acqua lo bagnava posso entrare? domandò fino a ora ne hai mai chiesto permesso non so che scruppo ti è venuto all'improvviso la situazione è diversa ormai sei a casa tua e come dicono gli inglesi che mi hanno educato la casa di un uomo è il suo castello entra ma guarda che l'ho a letto dormivi? credo di essermi addormentato con me non devi fare cerimonie a letto eri a letto torna io rimango solo qualche minuto Riccardo Reissi infirò fra l'enzuola rapidamente battendo i denti per il freddo ma anche per il timore residuo e anche si tolse la vestaglia Fernando Pessoa si lette su una sedia a cavallo le gambe e incrociò le mani sulle ginocchia poi si guardò intorno con aria critica allora è qui che sei venuto ad abitare sembra di sì lo trovo un po' triste le case che sono rimaste a lungo vuoto hanno tutto questo aspetto e vivrai qui da solo? una persona sola a quel che vedo no mi sono trasferito oggi sto già ricevendo una visita io non conto non sono una compagnia hai contato abbastanza per aggumarmi a scimili dal letto con un freddo del genere solo per aprirti la porta ma al finire che dovrò darti una chiave non saprei servirmene se potessi attraversare le pareti si sarebbe evitato questo disturbo lascio perdere non prendere le mie parole come un rimprovero anzi mi ha fatto molto piacere che sei venuto questa prima notte probabilmente non sarebbe stata facile paura? mi sono spaventato un po' quando ho sentito bussare non avevo pensato che potessi essere tu ma non avevo paura era soltanto la solitudine questa poi la solitudine quanto dovrei ancora imparare per sapere cosa sia? ho sempre vissuto da solo anch'io ma la solitudine non è vivere da soli la solitudine non è essere capace di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi la solitudine non è un albero in mezzo o una pianura dove ci sia solo lui è la distanza fra l'info profonda e la corteccia tra la foglia e la radice stai fanaticando tutte le cose che non mi sono legate fra loro lì non c'è nessuna solitudine lasciamo stare l'albero guardati dentro e vedere la solitudine come si vuol dire solitario andare fra la gente peggio ancora solitario stare dove non ci siamo nemmeno noi stessi oggi sei di pessimo umore o anche i miei giorni non è di quella solitudine che io parlavo ma dell'altra quella di stare con noi stessi quella sopportabile che ci fa compagnia anche su questo c'è da dire a volte non riusciamo a sopportarla invochiamo una presenza una voce altre volte con la stessa voce con la stessa presenza servono solo renderla intollerabile è mai possibile lo è l'altro giorno quando ci siamo incontrati al belvedere ti ricordi e in attesa di quella tua innamorata ti ho già detto che non hai l'abbia innamorata va bene non ti arrabbiare ma potrebbe anche diventarlo come puoi sapere cosa ti riserve il domani o perfino l'età per poter essere tuo padre e allora cambia argomento racconta il resto della tua storia e a proposito del fatto che vi ho avuto l'influenza mi sono ricordato un piccolo episodio della mia malattia quest'ultima finale ed estrema ma quanti più nasmi il tuo stile è peggiorato molto anche la morte più nasica è proprio la più più nasica di tutte le cose il resto viene a casa mia un re un medico io ero colicato in camera mia sorella apri la porta la tua sorellastra del resto la vita è piena di fratellastri cosa vuoi dire con ciò in te speciale continua apri la porta e disse al medico è introduttore e qui questo inutile inutile ero io è chiaro come vedi la solitudine non ha quel limite ed ho per tutto qualche volta si è sentito realmente inutile è difficile rispondere perlomeno non ricordo di essermi sentito veramente utile credo anzi che sia questa la prima solitudine di non sentirci utili anche se gli altri pensano o noi portiamo a pensare il contrario gli altri si ingannano molte volte anche noi tirando per sua si alzò si è chiuso gli scuri della finestra guardo fuori imperdonabile dimenticanza disse non aver messo ad amastor il mio mensage un gigante tanto facile di tanta che la lezione è simbolica lo vedo lì lo vedo povera criatura se ne è servito pamores per i geniti d'amore che probabilmente gli stavano nell'anima e per profezie menti ovvie annunciare naufragi a chi va per mare per questo non sono necessari dosi miniatori particolari profetizzare le sventure è sempre stato sia di solitudine se i detti avesse corrisposto all'amore gigante in alto sarebbe stato il suo discorso tenendo per so era di nuovo seduto nella stessa posizione ti attiene ancora domandò Riccardo Reis perché? ho sonno non far caso a me dormi quando vuoi a meno che la mia presenza non ti disturbi qualche disturbo è vederti seduto lì così al freddo io non ho bisogno di coprirmi potrei perfino stare in maniche di camicia ma tu non devi dormire con la vestaglia non va bene me la levo subito sperando per so gli stese la vestaglia sull'altra punta gli imboccoli coperte aggiustò le quelle del rinsuolo maternamente adesso dormi senti Fernando fa mio favore spegni la luce per te non deve l'importanza di maniera al buio Fernando pezzuando verso l'interruttore la camiera si ritrova in un escuritoio improvvisa poi molto lentamente il chiaroio dell'abbio della strada cominciò a insinuarsi attraverso il fessuto della finestra una fascia luminosa tenue indeciso polviscolo si proiettò sulla parete Riccardo Reis si usò gli occhi mormorò buonanotte Fernando gli pare che fosse passato molto tempo quando udì la risposta buonanotte Riccardo contò ancora fino a cento o credete aver contato aprì gli occhi pesanti Fernando Pessuò è ancora seduto sulla stessa sedia con le mani incrociate sulle ginocchia un'immagine di abbandono di ultima solitudine perché forse perché essi insottiali il suo Riccardo Reis e questo gli pare nel confuso sogno la più terribile delle sventure verso la metà della notte si svegliò aveva smesso di piovere il mondo viaggiava attraverso lo spazio silenzioso Fernando Pessuò non aveva cambiato posizioni guardava in direzione del letto senza nessuna espressione come uno stato dagli occhi rigati molto più tardi Riccardo Reis si svegliò di nuovo una porta aveva sbattuto Fernando Pessuò non è più in la camera se ne è andato con le più minuci dell'alba come del pari si è visto in altri tempi e luoghi sono morte le contrarietà della vita quando Riccardo Reis si svegliò al mattino tardi si tiene la casa una presenza forse non è ancora la solitudine e il silenzio sopra per l'astro per alcuni minuti si vede sfuggire il coraggio come se assistessero a scorrere della sabbia in una clessidra sfruttatissimo paragone che nonostante sia tale ritorna sempre un giorno lo lasceremo perdere quando avendo una lunga vita di più cento anni saremmo noi stessi e crescita attenta la sabbia che in noi corre oggi no che la vita essendo porta non si presta le contemplazioni ma era di contrarietà che stavamo parlando quando Riccardo Reis si alzò e andò in cucina ad accendere la stufa e il fornero del gas scoprì che era senza fermiferi aveva dimenticato di comprarli e dato che la dimenticanza non viene mai sola si è accorsa che gli mancava anche il colline del caffè è proprio vero che un uomo solo non vale niente la soluzione più facile perché più prossima sarebbe stata di andare a bussare la porta dei vicini quelli di sotto o quelli di sopra la prego di scusare signora sono in noi in cucina del secondo piano ho traslocato qui ieri ora volevo farmi il caffè un bagno fare la barba e sono senza fermiferi mi manca anche il colline del caffè ma questo è ancora il meno faccio senza ho una scotola di tè questo non l'ho dimenticato il peggio è il bagno se mi prestasse un fermifero grazie tante scusi io sono dovuto disturbarla essendo gli uomini dei fratelli gli uomini degli altri anche se bastardi niente di più naturale non sarebbe neanche dovuto uscire nel freddo della scala sarebbe avuto i figli a domandargli ha bisogno di qualcosa ho notato che si trasferito ieri si sa che nei traslochi è così se non mancano i fermiferi ci si è dimenticato del sale se c'è il salbone si è perduta la spazzola i vicini ci stanno apposta Riccardo Reis non andò a chiedere soccorso nessuno sceso salì a offrire cortesie quindi non ci fu altro da fare che vestirsi infilarsi le scarpe mettersi una sciacqua per nascondere la barba lunga calcarsi in testa il cappello evitato per essersi dimenticato ancora di più presse il cosetto uscire per la strada in cui si è tenuta alla cerca di fiammiferi andò prima alla finestra a vedere come è il tempo cielo coperto niente pioggia ad ammastorso lo soletto ancora è presto per i vecchi che vengono a vedere le navi a quest'ora saranno a casa a farsi la barba con l'acqua fredda o forse no forse le stanche mogli riscalderanno una brocchetta d'acqua appena tiepida che a vita degli uomini portoghesi generalmente massima fra tutte non toglierà mollezze basta ricordare che discendiamo i liaretta da quelli citani che facevano il bagno nei laghi gelati dei monti Erminios e andavano subito solo per fare un figlio alla lusitana da un carbonaio in una taverna nelle pareti nella parte bassa del quartiere ricardo Reis compro i fiammiferi mezza di zia di scatole perché il carbonaio non ritenesse meschino e mattutino a fare ma si ingannava di molto che una tal vendita all'ingrosso l'uomo non si ricordava di averla fatta da chi mondo in mondo qui ancora si usa andare a chiedere il fuoco alla vicina il migliorito al freddo comportato alla sciacca dall'assenza di persone per la strada ricardo Reis salì a guardare il fiume il monte è l'atta sponda tanto bassi da qui e il riflesso del sole sulle acque che appariva e scompariva secondo il passaggio delle nuvole basse andò a fare un giro intorno alla statua a vedere chi era l'autore quando era sta fatta la data eccola lì 1927 ricardo Reis è uno spirito che cerca di essere di trovare sempre simmetria nelle regolità del mondo otto anni dopo le mie partenze per l'esilo è stato messo qui ad Amastor otto anni dopo che è Amastor è stato messo qui io torno in patria oh patria mi ha chiamato la voce dei tuoi sublimi ami a quei punti i vecchi comparvelo sulla strada parpa fatta la pelle increspata di rugheallume portano l'ombrello appeso al braccio indossano rozzi i mantelli scoloriti non portano cravatta ma i bottoni sono rigorosamente abbottonati non perché sia domenica di uno di rispetto ma per la dignità d'abito compatibile perfino con uno straccio i vecchi fissero ricardo Reis non si fidano di quella ronda intorno alla statua sono sempre più convinti che c'è un mistero in quest'uomo chi è che fa di chi vive prima di sedersi stendono sulla tavola umida da panchina una tela ripiegata poi con gesti misurati lenti di chi di una fretta si accomodano giustiscono fragorosamente il grasso è stata dalle tasche interna della mantella un giornale è il secolo delle limosime lo comprano sempre una domenica ora l'uno ora l'altro per una settimana sarà il turno del magro ricardo Reis ha fatto un secondo e un terzo giro intorno ad Amastor capisce che i vecchi sono impazienti con la presenza di requetta non li lascia concentrare la riccheo delle notizie che il grasso dovrà fare la voce alta a beneficio della sua propria incomprensione ed è magro raffabieta visitando sulle parole difficili che anche così non sono troppe prima perché i giornalisti non si dimenticano mai che scrivono per il popolo secondo perché siano molto bene perché il popolo scrivono il caldo Reis è sceso fino a l'inghiera a questo punto si è dimenticato dei vecchi ormai si erano immersi nel giornale su diere non morì uno che leggeva l'atto che ascoltava e commentava il portamonete di Luizio Seda c'era stampato una fotografia coloro di Salazar strano indizio o caso commerciale questo paese è pieno di micumi polizieschi si trova un uomo morto sulla strada per Sintra si dice strangolato si dice che prima non avevano addormentato con lettere si dice che durante si è posto ha partito molto la fame si dice che è stato un diritto afferrato parola che scritta rimedabilmente nel diritto e si viene a scoprire che nel portamonete l'assassinato aveva la fotografia del saggio il costruittatore tutto paterno oppure afferratamente se ci è permesso il parallelo ha dichiarato collattore francese per cui si lascia registrato il nome per la storia costrui si chiama Charles Ormond tra qualche tempo l'indagine confermerà che Luis Sera era un grande amminatore dell'emminente statista e sarà rivelato che sul cuoio di quel portamonete era visibile stampata un'altra dimostrazione del patrottismo di Sera che era l'embrero della Repubblica la sfera armillare con i suoi castelli e scudi ma anche la seguente frase preferite prodotti portoghesi discretamente Riccardo Resi si allontana lascia i vecchi in pace e tanta sorte nel drammatico mistero non averne anche notato la ritirata nient'altro accade degno di notte e la mattinata salvo nella normale riduttanza di uno scaldabagno da molte settimane fuori uso ci fu un grande spiego di fiammiferi prima che la fiamma si stabilizzasse come pure non merita uno sviluppo particolare la malinconica dell'utilizione di una tazza di tè e tre biscottini resti della cena di ieri e il bagno e la profonda tinozza un po' incrostata fra nomi di vapore la faccia rasata con calma una prima volta una seconda come se avesse appuntamento a qualche parte con una donna o lei venisse a trovarlo candestinamente a volte in collo e velo ansiosa di questo profumo di saponetta di questo odoroso esce di acqua e colonia intanto che altro doido di più violente e naturali non confondono tutti gli odori in un odore di corpo un gente quello che le alice fremente assolvono quello che fa ansare i petti dopo la gran corsa anche così che vagano di sfida i poeti la sua terra sfiorando la pelle delle donne anche se esse sono tanto lontane come in questo momento quando si dice qui è per ora frutto d'immaginazione signora di grande potere e mananimità riccardo lei si è pronto per uscire non c'è nessuno che lo attende non va alla messa delle undici a cui l'acqua beiletta all'eterno sconosciuta anche il buonsenso gli suggerirebbe di essersene a casa fino all'ora del pranzo la carta la sistemale lui vede ancora può leggere non ha deciso da prendere quale sarà la sua vita quale il lavoro qual è la ragione sufficiente per vivere e lavorare non so la parola e che cosa non aveva pensato di uscire al mattino ma a questo punto dovrà uscire sarebbe ridicolo tornare a svestirsi riconoscere che si era vestito per andare fuori senza accoggersi di ciò che faceva ci capita tante volte facciamo i primi due i passi per fantasticheria o distrazioni e poi non c'è un altro di medio che fare il terzo pur sapendo che si è sbagliato o ridicolo l'uomo è di fatto in ultima analisi un normale irrazionale entro in camera pensò che forse avrebbe dovuto rifare il letto prima di uscire non ponteva consentire a se stesso abitudini trasporatezza ma non voleva la pena non aspettava visite quindi si è dette sulle sedie su cui Fernando Pessoa ha trascorso la notte accoglie una gamba come lui incruciò le mani sul ginocchio tentò di sentirsi morto di guardare con occhi la statua e il letto vuoto ma c'era una vena che gli pulseva sulle tempe sinistra la parte di quel lato tremava sono vivo murmurò poi a voce alta sonora sono vivo e siccome non c'era nessuno di che lo potesse smentire mi credette si mise il cappello uscì vecchi non erano più soli alcuni bambini stavano giocando a campana saltando su un disegno tracciato col gesso per terra di casa in casa tutte con il loro numero progressivo sono tanti nomi che hanno dato a questo gioco c'è chi lo chiama settimana o mondo cielo e terra potrebbe anche essere rulotto gloria il nome più perfetto sarebbe però il gioco dell'uomo è questo che sembra la figura con che il corpo diritto e con le braccia aperte l'arco di cerco in alto a formare testo pensiero è saluto sulle pietre a guardare le nuvole mentre i bambini lo calpestano incoscienti in caso contrario si ha la padrona a dire guarda Maria sta piovendo molto è meglio se non esci rimani a stirare poi ti trovano in più nel tuo giorno di uscita che sarà solo fra i quindici giorni e questo lo si aggiunge per chi non si è nel tempo di queste regalie e di conoscerle non abbia sentito la precedente curiosità Riccardo Reis si affogge un minuto alla ringhiera superiore il vecchio non l'avevo notato il cielo si è aperto di più ci ha avvelato alla barra una grande fascia blu buon ingresso farà che arriva oggi dal 2 di gennaio se è il giorno di popore confidando nei miglioramenti che il tempo annunciava Riccardo Reis comincia la sua passeggiata per il Calaris scese fino a Camueres gli ebbe l'impulso di visitare l'hotel Braganza con quei ragazzi timidi che hanno fatto il loro esame al liceo che al momento più studiare una scuola che tante volte avrà annoiati la tornano ancora a visitare e anche i professori e i compagni del classe indietro finché tutti si stanca o di la preligazione inutile come tutti si stanca il pellecrino comincia a ignorare il luogo del culto che sarebbe andata a fare l'albergo a salutare Salvador Pimenta allora dottore ha sentito un assaggio di noi? scambia qualche parola con Lidia poverina tanto nervosa apposta per malizia chiamata all'ingresso vieni qua che il dottoresso vuole parlarti non è stato niente particolare che mi ha spinto a passare di qui solo per ringraziare per quanto bene mi avete trattato e istruito tanto alle mie di quanto al liceo se non sono stato capace di imparare di più la colpa non sarà dei mestri ma di queste mie teste balorda scendendo giù per i maccipedi di fronte alla chiesa a Don Martires il credore si ispira un'area balsamica e la preciosa serazione delle devote che stanno là dentro ora è cominciata la messa per le persone di questo genere quelle del mondo superiore che si riconoscono se sia buon naso le famiglie e le essenze si intuisce che il cielo di realtà ha il buon odore che mandano è foderato di pompon di piumini da cipria e certamente il candelario aggiunge la pasta e le candele adegere una generosa porzione di paciuli il tutto riscaldato fuso e messo all'artere più il quantum sadis l'incenso provoca la resistibile brachezza dell'anima un rapimento dei sensi allora i colpi si rammolliscono gli sguardi si svuotano e finalmente l'estasi Riccardo Reis non sa neanche ciò che perde ad essere adepto di religione morte non si è chiarito se preferisca le grecole e le romane che questo e quello inverso invoca a lui basta visione dei dei e non gli è soltanto scende fino al centro della città stata già nota calma domenicale e provinciale suono il pomeriggio dopo pranzo verranno gli abitanti del quartiere a vedere le vetrine passano tutta la settimana aspettando questo giorno famiglie interi con bambini in braccio o stascinando i piedi stanchi dopo una giornata intera durante il caccagno e per la scarpa stretta poi chiedono un dolcetto di riso se il padre era uno buono e vuole farlo in pubblico la figura di benestanti finiscono tutti in la letteria cappuccini per tutti e quindi si risparmerà sulla cena chi non mangia ha mangiato si dice malato non è il resto domani giunta la sua la Riccardo Reis pranzerà questa volta va alle a chave e de oro una bistecca per toglierse a nausea tutto col ducciume e poi visto che si prannuncia tanto lungo il pomeriggio compro un biglietto per il cinema vedai Battelier del Volga un film francese con Pierpa Char che Volga se l'hanno mai riuscita a inventare in Francia il film sono come la poesia arte di illusione con uno specchio dato da pozzangara si fa un oceano intanto il tempo era cambiato all'uscita del cinema minacciava la pioggia perciò decisi di prendere un taxi o meno male era appena entrata in casa aveva giusto preso il cappello e si era tolto l'impermiabile quando lì due colpi dati col battente di ferro della porta in strada secondo piano è qui pensò che fosse magari Fernando Pessoa alla luce del giorno contrariamente al solito si annunciava chiesosamente capace che spunti in vicino alla finestra domandando chi è e si mette a gridare un'anima dell'altro mondo se la similuassi tanto facilmente sarebbe certo perché conosce bene l'anima di questo apri la finestra guardò era Lidia che stava già a prendere l'ombrello cadevano le prime gocce grosse pesanti che sarebbe venuta a fare perché un minuto prima la solitudine di apparse la maniera più disgraziata di essere vivo e adesso l'intruso era infastidiva anche se poteva approfittarmi volendo per le stessioni del corpo una battaglia erotica per calmare i nervi e pacificare i pensieri si affoggio sulle scale per tirare il cordone mi dilide a salire agitata e prudente sembra che fosse una contraddizione fra due termini l'allora risolta e indietroggia sulla soglia senza freddezza evidente solo riservato coltanto che la sorpresa potesse giustificare non ti aspettavo c'è qualche novità e qualsiasi saduce che ha detto quando lei è entrata con la porta già chiusa e tremendo vicini come questi non si ritrovano da nessuna parte fino ad ora non ne conosciamo nel nome né la faccia Lidia ha fatto un passo per essere abbracciata e lui l'ha accontentata e poi la compiacenza ha pensato ma l'istante dopo la stringeva forte per baciare il collo ancora non riusci a abbracciarla da pari a pari sulla bocca solo sdraiati ogni momento il suo primo si avvicina e si perde la coscienza lei non si azzarda neanche si lascia abbracciare quanto vuole lui e il resto ma oggi no sono venuta solo per sapere se si è ben sistemato hai imparato queste parole in industria brighiera speriamo non notino la mia assenza e vedere l'arredamento della casa lui voleva portarla in camera ma lei si è sottratta non si può non si può e le tremava la voce però la volontà era ferma per modo di dire che la sua volontà vera sarebbe stata di colicarsi in quel letto ricevere quell'uomo sentire la testa di lui sulla sua spalla solo questa e nient'altro solo toccare gli capelli sulla testa come una carezza che non lo sa tutto se tanto si poteva permettere ecco quel che vorrebbe ma dietro il banco della tebraganza c'è il salvador che si sta domandando dove diavolo si è cacciata questa lidia ormai passa veloce per tutta la casa come se lui disse con i suoi occhi esperti va registrando ciò che manca non ci sono scopi né secchi né stracci per il pavimento e per la polvere né sapone azzurro e bianco né sapone da bucato né scivia né pietra e pomice né saggine spazzolone né cartigenica gli uomini sono trascurati come bambini si imbarcano diretta all'altro capo del mondo a scoprire la via delle indie e poi accorrono a quel ruomo che gli manca l'essenziale chissà che cosa oppure il semplice colore della vita uno qualunque in questa casa d'avanzo c'è solo la polvere il lanicio quei fini forse i capelli grigi che la girazione continua a lasciar cadere quando la vista si stanca non se ne accorgono neanche più perfino i ranni disinvecchiano le tele la polvere le appesantisce un giorno l'insetto muore rimane il corpo secco con le zampe raggrenzite nel suo tumulo aereo con i resti quasi polverosi e le mosche al proprio destino nessuno nessuno sfugge nessuno resta come semente questa è una gran verità intanto Lidia annunciava che verrà venerdì a fare pulizia porterà qualche manca è il suo giorno di riposo ma allora tua madre non vai a trovarla le manderò un messaggio poi vedrò come posso telefonare alla merceria che le è vicino l'avviso loro avrò bisogno di soldi per le spese ma li metto io poi facciamo i conti che idea prendi cento scudi basteranno Gesù mio Gesù cento scudi sono una ricchezza ti aspetto allora venerdì ma mi dispiace molto che tu venga per le pulizie ma che c'entra così come è la casa non può certo viverci poi ti darò un pensierino non voglio pensierini faccio finta che sono la sua donna di servizio tutti devono avere lo stipendio il mio stipendio è la sua buona accoglienza queste parole meritavano davvero un bacio e Riccardo Lès gliela ha dato finalmente sulla bocca lui aveva già la mano sul chiavesteo della porta ma non ci sia altro da dire si è concluso il contratto quando Lidia l'improvviso ha dato la notizia ha precipitato le parole come se non potesse polvisi o se ne volesse riparare il più fretta possibile la signoria Marsenda arriva domani ha notiforato da Coimbra vuole che gli dica dove abita ha chiesto con altrettante rapidità Riccardo Rays ha dato la risposta sembrava addirittura che se la fosse preparata in precedenza no non voglio fa come se tu non sapessi niente Lidia sentì sferice di essere l'unica depositare del segreto se ne va totalmente illusa scende velocissima le scale e siccome finalmente si era succhiusa la porta al primo piano prima o poi si dovevano pur soddisfare la curiosità del palazzo mi dice due volte in alto come se ripetesse un impegno per la prestazione di qualche servizio allora venerdì dottore verrò per le pulizie e come stesse avvisando la curiosità senti bella impicciona io sono la donna di servizio di rinquinio nuovo hai capito non ti metteria a immaginare altre cose lui non lo conosco né a tavola né a letto e saluta con molta educazione buonasera signora l'altra quasi non le risponde guarda sospoltosa e le donne di servizio non è così che sono così le giadre aeree generalmente sono ingrugnite si trascina una gamba induita nel traumatismo o le varici mentre lì descende la compagna con uno sguardo duro e freddo ma che donnaccia è questa sul penerotto di sopra di carto race ha già chiuso la porta cosciente della propria doppiezza ed esaminandola no non dare il mio indirizzo a Marsenda se fosse stato uomo leale e sincero avrebbe aggiunto lei lo sa già da una lettera che le ho scritto in confidenza fermo posta perché padre non si aspettasse e se avesse voluto andare più avanti alla confessione sfogarsi avrebbe detto da adesso rimarrò in casa uscirò solo per mangiare e anche questo di corsa a guardare l'orologio che a tutte le ore sono qui notte mattina e pomeriggio per tutto il tempo che lei sarà a Lisbona domani che lunedì di certo non verrà il treno arriva tardi ma forse si farà viva o martedì o mercoledì o giovedì o venerdì venerdì no che avrò l'idea per le pulizie ebbene che importanza aveva le metteva insieme ciascuno ha proprio posto la cameriera e la signorina di buona famiglia non c'era pericolo se si mescolassero Marsenda non si trattereà mai tanti giorni a Lisbona viene solo per il medico certo c'è anche quella faccenda del padre molto bene e tu cosa speri che possa succedere se lei verrà a casa tua non spero niente mi limito a desiderare che venga credi che una signoria come Marsenda con la squisita educazione che ha ricevuto il rigido codice umorale di suo padre notaio faccia vista ad uno scapolo proprio nella casa di lui da sola credi che le cose vadano così nella vita un giorno le ho chiesto perché mai volesse vedermi e mi ha risposto che non lo sapeva in un caso del genere è la risposta che dà più speranze penso io uno non sa l'altro ignora pare di sì proprio come Adamo ed Eva nel paradiso che esagerazione questo non è il paradiso né lei Eva né io Adamo come sai Adamo era poco più vecchio di Eva su una differenza di ore o giorni non so bene Adamo è ogni uomo ogni donna è Eva uguali diversi e necessari e ciascuno di noi è il primo uomo e la prima donna unici ogni volta benché si soggiudicare bene la donna continua ad essere più Eva che l'uomo Adamo per fortuna parli così perché ti ricordi la tua esperienza no parlo così perché a tutti noi conviene che sia così quello che avresti voluto tu Fernando era tornare al principio il mio nome non è Fernando ah Riccardo Reissi non uscì per cenare prese dei biscotti sul grande tavolo della sala in compagnia di sette sedi vuote sotto lampadaria cinque braccia con due lampadine bruciate i biscotti ne mangiò tre ne rimaneva l'uno nel piatto ricapitolò e vide che gli mancavano due numeri il quattro e il sei rapidamente riuscì a trovare il primo era negli angoli della sala rettangolare ma per scoprire il sei dove attrazzarsi cercare qui e lì con questa ricerca trovò l'otto le sedie vuote infine decise che sarebbe stato lui il sei poteva essere qualsiasi numero se era davvero i numeri con un sorriso in mezzo fra le unie tristezza scosse la testa mormorò credo che sto impazzendo poi andò in camera si sentiva nella strada il mormorio continuo delle acque quelle che cadevano dal cielo quelle che scorrevano nei ricagnoli verso la zona bassa di Boavista e con dei barou nella pila di libri ancora non sistemati andò a cercare The Good Day of the Labyrinth si sedette sulle sedi dove era stato Fernando Pessoa con una delle coperte del letto si copì le ginocchia e si mise a leggere cominciando di nuovo dalla prima pagina il corpo che era stato trovato il primo giocatore occupava braccia spalancate gli scacchi delle pedine del re e della regina e i due seguenti in direzione del campo avversario proseguì la lettura ma appena prima di arrivare al punto in cui aveva sospeso la lettura cominciò da aver sonno si coricò lesse ancora due pagine con sforzo si addormentò al bianco di un paragrafo tra la tantestesima e la tantottesima mossa quando il secondo giocatore rifletteva sul destino del vescovo non si alzò per spegnere la luce centrale ma la luce era spente quando si svegliò nel cuore della notte pensò che alla fin fine doveva essersi alzato che avesse già autointerruttore sono cose che facciamo mezzi incoscienti il colpo di per sé potendo evita i fastidi per questo dormiamo alla vigilia della battaglia dell'esecuzione per questo infine moriamo quando non riusciamo più a sopportare la luce violenta della vita a mattino gli astri erano ancora dormi siccome si era dimenticato di chiudere gli scudi alla finestra ingligiochierò all'emottutino e gli riempì la vastanza aveva di fronte a sé un giorno lungo una lunga settimana tra tutto quello che gli dava più voglia era restarsene al letto nel cadduccio delle coperte lasciando la barba crescere diventare muschio finché qualcuno non fosse venuto a bussare alla porta chi è sono Marsenda e lui avrebbe esclamato concitato un momento in tre secondi era con barbe e capelli presentabili profumato di bagno vestito di fresco e appuntino per ricevere la vista attesa entri la prego che bella sorpresa non una volta ma due e andava a bussare alla porta prima il lettaio per sapere se il signor dottore voleva il lato tutte le mattine poi il quarentiere per sapere se il signor dottore voleva il pane tutte le mattine e lui è entrambi gli sposi di sì allora dottore lasci la sera il bricoso e lo zerbino allora dottore lasci la sera il sacchetto e il pane e la mine della porta ma chi è che vi ha detto che abito qui è stata la sera del primo piano ah e il pagamento come sarà se vuole paga ogni settimana o ogni mese meglio ogni settimana sì dottore Riccardo Reis non lo andò a loro come lo avevano saputo e la domanda è che non vale mai la pena di fare dal resto abbiamo chiaramente sentito l'idea rivolgersi così quando scendeva alle scale c'era la vicina e l'ha sentita anche lei con latte e tè e il pane fresco Riccardo Reis fece una sola colazione gli mancava il burro e la marmellata ma questi cibi delicatissimi vanno bene semplici se la regina Maria Antonietta ai suoi tempi avesse avuto un pane simile non avrebbe dovuto alimentarsi di broche adesso manca solo il giornale ma persino questo arriverà Riccardo Reis sentito nella stanza sente lo striglione il secolo il notizias apre rapidamente la finestra ed ecco arrivare il giornale per aria piegato con una lettera segreta un udo di inchiostro che il tempo così com'è non lascerà asciugare rimane sulle ditte il pestoso merastro un po' grasso come di grafite adesso tutte le mattine questo piccione viaggiatore verrà a bussare i vetri fino a che da dentro gli aprono si sente lo striglione già dal fondo della strada poi se la finestra è tardi ad aprirsi come quasi sempre accade il giornale vuole a pararia ruotando con un disco batte una prima volta di nuovo una seconda ormai Riccardo Reis è comparso ha spalancato la finestra mi riceve fra le braccia il messaggio a lato che rega le notizie del mondo si affaccia sul davanzale per dire grazie signor Manuel e il meditore risponde a domani signor dottore ma questo succederà più avanti per ora si stanno ancora mettendo d'accordo il pagamento sarà ogni mese con i clienti fissi e così si risparmia il tempo e la fatica di stargli a cambiare tre centesimi tutti i giorni ben misera somma adesso aspettare leggere i giornali in questo primo giorno anche quello è pomeriggio quindi leggere valutare ponderare e correggere a capo le odi riprendere l'abirinto verso Dio guardare la finestra al cielo sentire parlare sulle schede vicine del primo piano e quella del terzo capire in cui le voci acute sono per lui dormire dormi chiare e svegliarsi uscire solo per pranzo di corsa linee pressi in una risticceria di calarizzo tornare a giornare gioletti alle odi raffreddate alle sei ipotesi di sviluppo delle quarantonavesime mossa passare davanti allo specchio tornare indietro per sapere se è ancora là quello che è passato decide che questo silenzio è insopportabile senza una nota di musica che uno di questi giorni andrà a comprare un cromofono e per informarsi su quello che più gli convenga cerchi i annunci pubblicitari Raymond Phillips L.S.A. Filco Filot Stuart Warner va prendendo nota scrive il super telodino senza capire altro che il super è lo stesso con qualche dubbio e povero uomo solitario si turba davanti un annuncio che promette alle donne un petto impeccabile in tre massimo cinque settimane con il metodo dei parigini ex-buers in accordo dei tre desiderate fondamentali Bust de la ferme Bust de la doucet Enigme anglo-francese di cui traduzione il risultato si incarica madame Hélène de Loire di Rue de Miro che sta è chiaro a Parigi dove tutte quelle splendide donne applicano questi metodi per assodare sviluppare e ridurre successivamente allo stesso tempo Riccardo Reis esamina altri stabilimenti annunci quello del ricostituente Bonassau quello del vino di tutto tipo di carne quello dell'automobile Givette quello delle riserve Boccapargille quello della sapinetta Notte d'Argento quello del vine Velle quello delle opere di Mercedes Blasco quello della Selva quello dei certali di Hodel quello dei sentite lette della monaca portoghese quello dei lipidi Blasco Ibanez quello dei spazzarini di Dante Teck quello dei Véremont per i Dolori quello delle tinture per capella nuova quello dei tesodoro per le ascelle e poi tornano assegnate notizze già lette è morto Alexandre Glazunov autore di Stenkarazin da Salazar che osservate un dictatore sono state inaugurate le menze presso la Fondazione Nazionale per l'allegria del lavoro La Germania annuncia che non tirerà le sue truppe dall'Adenania. Altri temporali si sono abbattuti sul ripanteio. Dichiarato l'ossore di guerra in Brasile è arrestato centinaia di persone. Parole di Hitler. O domineremo il suo destino o pariremo. Inviate forse militari alla provincia di Badagioz. Tre migliaia di lavoratori hanno invasi a proprietà rurali. Alla Camera dei Comuni alcuni erotori hanno affermato che deve essere riconosciuta a reice l'eguaglianza dei diritti. Nuovi e sconvolgenti sviluppi del caso Seda sono cominciati di ripresa il film in Revoluzione di Maggio, che racconta la storia di un fuoriuscito che entra in Portogallo per fare l'evoluzione, non quella, un'altra. E le convertite idee in nazionalisti della figlia, della padrona della pensione, doveva vivere grandissimamente. Questa notizia Riccardo Reis avesse una, due o tre volte, ma vedeva se riusciva a liberarsi di un eco indefinibile che gli ronzava nella profondità dei conti della memoria. Questo mi ricorda qualcosa, ma tutte le volte non ci riuscì, e fu solo quando era già passata un'altra notizia, sciopero generale e carugna, che il termine mormoria si definì e divenne chiaro. Non si trattava neanche di un ricordo antico, che era cospirazione. Quel libro, quella mormoria, la storia di quell'alta conversione al nazionalismo e i suoi ideali e giudicare delle prove fornite successive, hanno delle donne attive provocandiste, con risultati così magnifici, che già la letteratura e la settima arte riconoscono un nome in merito a questi angeli di purezza e venilazione, che vanno fervidamente alle ricerche delle anime maschili, traviate, ancor meglio se smatite. Non esiste neanche una, così che possano posarvi sopra la mano e lo sguardo purissimo sotto al lacrime il medico. Non hanno bisogno di mandare citazioni, non interrogano, si vignine, come il vice capo. Non assistono vinciti come Victor. Sono plurali questi arti femminili, superano moltiplicandosi le altre, già menzionate di rassodare, sviluppare e ridurre. Si anzi hanno impiesato dire che tutti si rassumono al limite in queste, tanto i loro significati letterali come le derivazioni e le storie posizioni, in inclusi gli slanci e le sederazioni della metafora, le licenze e le associazioni di idee. Sante donne, agenti di salvezza, religiose portoghesi, sorelle mariane e pietose, dovunque siano, nei conventi, nei bordelli, nei palazzi o nelle capanne, figli di padrone e di pensione del senatore, che messaggi astrali e telepatici scambieranno fra loro, perché da così diverse essere condizioni, secondo i nostri pieteri terreni, risurde un'azione così concertata, ugualmente conclusiva. Il riscatto dell'uomo perduto, che al contrario di quanto afferma il proverbio, aspetta sempre i consigli, e come premio supremo, a volte gli danno loro amicizia e sorelle, altre l'amore, il corpo e vantaggio della sposa amata. Perciò l'uomo mantiene vive perenni la speranza e la felicità. Chi verrà, si verrà, sull'aura dell'angelo buon disceso delle atture degli altari, perché, insomma, confessiamolo, una buona volta. Tutto ciò altro non è che manifestazione secondaria del culto umariano, se condine, se la parola fa sottorizzata. Mariglia è la figlia padrona della pensione umana per pagare la Vergine Santissima, che pietosamente guardano e impongono le mani lentive sulle piaghe fisiche e morali, che compiono il miracolo della salute e della conversione politica. L'umanità farà un gran passo avanti, quando questo tipo di donna comincerà a comandare. Il caldo re sorrideva, mentre mentalmente rincava queste rivalenze tristi. Non è piaciuto di vedere un uomo sorride da solo. Peggio ancora se è davanti allo specchio che sorride. E' fatta che c'è una porta chiusa tra lui e il resto del mondo. Allora pensò, e Marzenda, che donna sarà Marzenda? La domanda è gratuita. Nero passatempo di che io non ho qualcuno con cui parlare. Prima bisognerà vedere se lei ha il coraggio di venire in questa casa, poi dovrà dichiarare, anche se non lo volesse o non lo sapesse dire a parole, perché è venuta e a che scopo, in questo luogo chiuso e solitario, che è come un'enorme la mia tela, nel cui cento in attesa una tarantola ferita. Oggi è l'ultimo giorno della scadenza che nessuno ha indicato. Riccardo Reis guarda l'orologio. Poco minuto dopo le quattro, la finestra è chiusa. Nel cielo sono poche le nubi, e alte. Se Marzenda non verrà, non avrà la facile giustificazione degli ultimi tempi. Io certo l'avrei avuto, ma la peggio era tanta. Come poteva uscire dall'albergo? Anche se mio padre non c'era. Via con i suoi amori. Di certo non avrei chiesto il direttore Salvador, con la confidenza che gli diamo. Signora Marzenda esce? Con questa pioggia. Una volta, dici volte, ha portato Riccardo Reis l'ora. Sono le quattro e mezzo. Marzenda non è venuta e non verrà. La casa si fa scura. I mobili si nascondono in ombra a tremola. È possibile ora capire la sofferenza di Adam Astor. E poiché più di così sarebbe tuteltà, gli suonano all'ultimo minuto due colpi del battente alla porta. È sembrato che il palazzo tremasse da cima a fondo come se una onda sismica ne avesse attraversato le fondamenta. Riccardo Reis non è corso alla finestra, perciò non sa chi sta per entrare. Quando si lega sulle scale a tirare il cordone, sente la piccina dei piani di sopra aprire la porta. La sente dire «Ah, scusi, pensavo che avessero bussato qui», è una frase nota e l'età della trasmessa generazione di vicine e curiose della vita altrui. Con una piccola modifica di termini, se il battente manuale è stato ormai sostituito dal campanello elettrico. Allora dicono «Suonato invece che bussato, ma la bugia è la stessa». E Marsenda Ha facciato a corrì mano Riccardo Reis e la vede salire. A metà la prima rampa le guarda in su, per accertarsi che abiti realmente lì la persona che cerca. Sorride. Anche lui sorride. Sono i sorrisi che hanno una destinazione, non sono fatti allo specchio. E questa è la differenza. Riccardo Reis si è andetreggiato verso la porta, Marsenda sta sull'ultima rampa. Solo allora lui si accorge di aver acceso la luce delle scale. La riceverà quasi al buio e mentre esiste su ciò che deve fare, e mentre esiste su ciò che deve fare, accendere o non accendere, c'è un altro livello del pensiero in cui si esprime una sorpresa. «Com'è stato possibile che sia apparso così luminoso il sorriso di lei?» mi stia qua su. «Ora davanti a me. Che parole dirò? Non posso domandare. Allora com'è andata?» Ho esclamato in mente. «Quanto è chi si vede?» «La trovo benissimo!» Ho lamentato in romantico. Non l'aspettavo più. Disperavo. «Perché ha tardato tanto?» Lei è entrata. Io chiudo la porta. Nessuno di noi ha ancora detto una parola. Riccardo Reissi le prende la mano destra. Non per salutarla. Vole solo guidarla in questo labirinto domestico. In camera mai. Perché ne adatta? Iniziare da pranzo sarebbe ridicolo. Su quali sede da lungo a tavola si dovrebbero sedere? Uno accanto all'altro? Di fronte? E lì quanti sarebbero? Il nome di lui? Lei è certo un'unica. Ma da lui per lo studio. Lei sul divano e su un altro. Sono già entrati. Alla filtra le luci sono accese. Quale il soffitto? Quale la scrivania? Marsendo osserva intorno ai mobili austeri. Austeri. Le due librerie e poi con i pochi libri. Il tampone di carta sorpente. Allora Riccardo Reissi dice. Ora la bacerò. Lei non ha risposto. Con un gesto lento ha afferrato il gomito sinistro con la mano destra. Che significato potrà avere quel movimento? Una protesta? Una richiesta di tregua? Una resa? Il bacio così incruciato davanti al corpo è una barriera. Forse il rifiuto. Riccardo Reissi è avanzato di un passo. Lei non si è mossa. Altro passo. Quasi la tocca. Allora Marsenda lascia il gomito. Abbandona la mano destra. La sente morta come l'altra. La vita che è in sé. Si divide tra il cuore violento e le ginocchia tremanti. Vede il viso dell'uomo avvicinarsi lentamente. Sente un singhiozzo formarsi in gola. È la sua. In quella di lui le labbra si toccano. È questo un bacio. Pensa. Ma questo è solo l'inizio del bacio. La bocca di lui si stringe contro la bocca di lei. Sono le labbra di lui che desserano le labbra di lei. E questo è il destino del corpo. Apirsi. Ora le braccia di Riccardo Reissi la cingono alla vita e le spalle la stringono. E il senno si comprime per la prima volta contro il petto di un uomo. Lei capisce che il bacio non è ancora finito. Che in questo momento non è neppure concepibile che possa terminare. Il mondo è tornato al principio. Alla sua prima ignoranza. Capisce anche che deve fare qualcosa in più che le sparse con le braccia abbandonate. La mano destra sale fin sulla spalla di Riccardo Reiss. La mano sinistra è morta o addormentata. Perciò sogna. E nel sogno ricorda i movimenti fatti un tempo. Sceglie, collega, cordia a quelli che sognando la sollevano fino all'altra mano. Ormai si possono già intrecciare le dita con le dita. Incrociarsi dietro la nuca dell'uomo. Non deve nulla Riccardo Reiss. Risponde al bacio con il bacio. Alle mani con le mani. L'ho impezzato quando ho deciso di venire. L'ho pensato quando sono uscito dall'albergo. L'ho pensato mentre salivo con le saccala. E l'ho vista facendo a cuore di mano. Mi bacerà. La mano destra. Si ritrae dalla spalla. Scivola giù. Esausta. La sinistra non c'è mai stata. Nei momenti in cui il corpo fa un movimento ondolatore o di ritrazione. Di bacio ha raggiunto quel limite in cui non può più bastare a se stesso. Se poi amoci prima che la tensione accumulata ci faccia passare allo stadio seguente. Quello dell'esplosione degli altri baci. Precipitati. Brevi. Ansanti. In cui la bocca non si accontenta della bocca. Ma adesso torna costantemente. Chi di bacio abbia qualche esperienza sa che è così. Non mazzenda. Pela prima volta abbracciata e baciata da un uomo. Eppure capisce. Lo capisce tutto il suo corpo. Dentro e fuori la pelle. Che quanto più il bacio si prolungherà, tanto più grande diventerà la necessità di ripeterlo. Avidamente. E non crescendo senza possibile conclusione in se stesso. Sa un altro la strada. Come questo singhiozzo in gola che non cresce e non si libera. E la voce che chiede debole. Mi lasci. E aggiunge. Mossa non sa da quali scrupoli. Come se avesse paura di aver l'offeso. Mi lasci sedere. Riccardo Reis la conduce fino al divano. L'aiuta. Non sa. Ciò che farà dopo. Che parole rispetto di dire. Se reciterà una dichiarazione d'amore. Si chiederà semplicemente scusa. Se si ingerocchierà sui piedi per questo o quello. Si rimarrà in silenzio in attesa che parli lei. Tutto gli sembra falso. Disonesto. L'unica verità profonda era stata in dire. La bacerò. E avranno fatto. Marcella è seduta. Si è messa in grembo la mano sinistra. Bene in vista. Come per prendere a testimone. Riccardo Reis si è seduto anche lui. Si guardano. Si intende entrambi il proprio corpo come una grande conchiglia mormorante. Il marcella ha detto. Forse non dovrei dirlo. Ma io speravo che mi baciasse. Riccardo Reis si è chinato in avanti. Lei ha afferrato la mano destra. Se l'hai portata all'irabla. Infine ha parlato. Non so se è stato per amore o per disperazione che l'ho baciata. E lei ha risposto. Nessuno mi ha mai baciato prima. Perciò non so distingue fra la disperazione e l'amore. Ma almeno. Saprò che ho sentito. Ho sentito il bacio come il male deve sentire l'onda. Se hanno un senso queste parole. Ma di nuovo sto dicendo quel che sento adesso. Non ci ho più sentito prima. Ho passato tutti questi giorni ad aspettarla. A domandarmi cosa sarebbe successo se fosse venuta. E non ho mai pensato che sarebbe andata così. E' stato quando siamo andati qui che ho capito che baciarla Sarebbe stata l'unica azione che avesse un senso. E quando poco fa le ho detto che non sapevo se avevo baciata per amore o per disperazione. Se in quel momento sapevo cosa significasse. O non lo so più. Voglio dire che in fondo non è indisperato. O che in fondo non prova amore. Credo che ogni uomo ami sempre la donna che sta baciando. Sia pure per disperazione. Che ragioni ha per sentirsi disperato? Una sola. Questo vuoto. Un uomo che può seguirsi di tutte e due le mani e si lamenta. Ma io non mi sto lamentando. Dico solo che bisogna essere proprio disperati per dire a una donna. Così come ho detto io. La bacerò. Potrei averlo detto per amore. Per amore avrei baciata. Non l'avrei detto prima. Allora non mi ama. Lei mi piace. E anche a me lei piace. E tuttavia non è per questo che ci siamo baciati. No davvero. Che faremo adesso? Dopo qualche successo. Sono qui seduta in casa sua davanti a un uomo con cui ho parlato tre volte nella vita. Sono venuta per vederlo. Parlargli ed essere baciata. Al resto non voglio pensare. Un giorno forse lo dovremo fare. Un giorno forse. Oggi no. Vado a preparare una tazza di tè. Ho dei pasticcini. Aiuto io. Poi dovrò andarmene. Mio padre può arrivare in albergo. Chiedevi di me. Si accomodi. Si troverà Jack. Sto bene così. Bevero il tè in cucina. Poi Riccardo e di essere fece vedere la casa. In camera non oltrepasserò una porta. Su uno sguardo tornarono lo studio. Il marsema domandò. Ha già cominciato le viste? Ancora no. Forse proverò con un ambulatorio. Anche se dovrà essere per poco tempo. È questione di riabituarmi. Sarà un inizio. E c'è di cui tutti noi abbiamo bisogno. Di un inizio. La polizia ha disturbato di nuovo. No. E ora non saranno neppure dove abito. Se lavorano lo sapranno subito. E il suo braccio? Il mio braccio basta guardarlo. Non spero più in qualche cura. Ora mio padre. Suo padre? Mio padre pensa che devo andare a Fatima. Dice che se avrò fede può avvenire un miracolo. Che ce ne sono stati? Quando si crede ai miracoli ormai non c'è più niente da sperare nella speranza. Cosa credo io? E che i suoi amori siano gli sboccioli. Sono durati un pezzo. Mi dica Marsenda. In che cosa crede? In questo momento? Sì. In questo momento credo solo nel bacio che lei mi ha dato. Possiamo darci un altro? No. Perché? Perché non sono sicura di provare la stessa cosa. E ora vado. Partiamo domattina. Riccardo Re si accompagnò. Lei gli tese la mano. Mi scriva. Anch'io scriverò. Ma fra un mese. Se mio padre vorrà ancora. Se non vorrete voi vero io a Coimbra. Mi lascia andare Riccardo. Prima che seguì a chiederle un bacio. Marsenda. Resti? No. Scese rapidamente le scale. Senza guardare verso l'alto. Il portone della strada sbatté. Quando Riccardo Re si entrò in camera. O di dei passi di sopra. O è una finestra che si apriva. È la vicina del terzo piano che si vuole togliere il dubbio. Per modo che camminare conoscerà che tipo di donna ha fatto vista il mio inquilino. Si anch'eggia. Già si sa. O io mi sbaglio di grosso. O è una gran mancanza di rispetto. Un palazzo però tanto tranquillo. Tanto serio. Dialogo e giudizio. Ieri ne è venuta una. Ora è con un'altra. Dice la vicina del terzo piano. Non ho ancora notato quello che è stato qui ieri. Ma ho visto arrivare quello di oggi. Viene a fare le pulizie di casa. Dice la vicina del primo. Ma guardi che non ha fatto la legge una donna di servizio. Su questa ragione. Sembrava più una camerina di gente fine. Se non fosse stata così carica di pacchi. E allora adesso poi l'ha bucato. Ho riconosciuto dall'odore. E poi delle scopre. Io ero qui sulle scale a battere lo struino. Quando è entrata. Quella diede una ragazza giovane. Con un bel capello. Di quelli che si usano ora. Però non si è fattenuta. Lei che ne pensa. Francamente non so che dirle. Si è trasferito qui. Fanno otto giorni domani. E sono già venute due donne. Questa è venuta per le pulizie naturale. Un uomo solo ha bisogno di qualcuno che gli rivolghi nella casa. L'altro può essere una parente. Allora pure una famiglia. Ma è molto strano. Ha notato che per tutta la settimana è uscito solo all'ora di pranzo. Giorni e notti sempre chiusi in casa. Lei lo sapeva che è il dottore. L'ho saputo subito. Allora di servizio l'ha chiamato il signor dottore quando sta qui domenica. Sarà il dottor medico o il dottor avvocato. Questo non lo so. Ma se tranquilla quando andrò a pagare l'affitto, così come se niente fosse, lo domando. L'amministratore lo deve sapere. Poi mi dica che se fosse medico è sempre bene avere un dottore nel palazzo, per qualunque bisogno. A parto che si dà fiducia. Voglio vedere se esca a pescare la donna di servizio per dirle che deve lavare la sua rampa tutte le settimane. Questa scala è sempre stata uno specchio. Glielo dica, glielo dica, che non pensi che ci metteremo noi a fare le cameriere. Ma ci mancherebbe altro. Non so davvero con chi ha a che fare. Questa fu la conclusione del vicino del terzo piano. Credendosi così il giudizio e il dialogo, resta solo da manzionare la scena ammuntata di lei che saliva a casa sua, molto lentamente, carpestando emollimenti e gradini con le pantofole. E vicino alla porta di Ricardo Reis si fermò in ascolto. Con le orecchie appiccicate alla serratura, udì un rumore d'acqua corrente. La voce era donna di servizio che cantava sottovoce. Fu una giornata di grandi lavori per Ligia. Si era portato un grumbiole che indossò. Si levò e coprì i capelli con un fazzoletto. E, rimboccate le maniche, si lanciò all'impresa con allegria. Sottrandosi ai giochi, di mano che Ricardo Reis, di sfuggita, sentiva il dovere di farle. Errore suo. Mancarsi l'esperienza di psicologia. Che questa donna non voleva ora altro piacere se non costrui pulire, lavare e spazzare. Non le costa neanche fatica. Tanto ci è abituata. E perciò canta. A voce bassa, perché è vicinato e non si stupisca della libertà delle donne di servizio. La prima volta che viene a lavorare in casa del dottore. Quando viene l'ora del pranzo, Ricardo Reis, che durante la mattina è stato mandato successivamente dalla camera allo studio, dallo studio alla sala, dalla sala alla cucina, dalla cucina al ripostiglio, dal ripostiglio al bagno, dal bagno è uscito per ripetere il percorso in senso contrario, con rapida incursione in due stanze vuote. Quando vide che era l'ora di pranzare e lei ne lo smetteva di lavorare, disse, con un certo imbarazzo e la voce, che ti attiva una riserva mentale. Sai, non ho da mangiare in casa. Se queste parole non fossero state una traduzione, tanto ma adesso è un pensiero, diciamo diversamente, se non fossero state una maschera mascherata, la frase sarebbe sentita così. Vado a pranzo. Ma a te non ti voglio portare al ristorante. Non starebbe bene per me. Come ti vuoi regolare? E lei avrebbe risposto con le stesse riuscite parole che sta pronunciando ora. Almeno lì, non ha due facce. Vada a pranzo, vada. Mi sono portato una scodellina di minestre all'albergo e un po' distufato. Le riscaldo e sono a posto. Le guardi. Magari non torni subito. Così non ciamperemo l'uno nell'altro. E dicendo rideva. Si asciugava con il dorso e la mano sinistra e la faccia sudata. Con l'altra si rassettava il fazzoletto che voleva scivolare. Riccardo lei se le toccò la spalla. Disse. Allora fra poco. E uscì. Era a mezza scala quando di aprirsi la porta del primo e del terzo piano. E non le vicine che andavano a dire ancora a Lidia. Signorina, non si dimentichi che ti lavai la rampa del suo padrone. Vedendo il dottore, era orientata rapidamente. Quando Riccardo resta arrivata in strada, la vicina del terzo piano scenderà a Timo. E tutti più susserranno. Oh, che spavento. Non hai mai vista cosa di uscirsi e lasciare la donna di servizio solo in casa? Dove si sono mai viste queste confidenze? Forse lavorerò già da lui in un'altra casa. Può essere. Vicina, può essere. Non dico di no. Ma può anche darsi che ci sia qualcosa sotto. Gli uomini sono certi mascalzoni. Arraffano tutto. Ma via. Può essere pur sempre un dottore. Ma guardi, vicina. Ti ho volsero per modo di dire. E gli uomini poi, se li compri, chi li non riconosce? Il mio neanche tanto. Ah, neanche il mio. Arrivederci, vicina. Non mi faccia scappare la tizia. Sia tranquilla che non se ne va senza lezione. Non fu necessaria. A metà pomeriggio Lidia uscì sul piano rotto armata di scopo e paletta, di acqua e sapone, di straccio e di spazzola. Quello del terzo piano aprì zitta zitta la porta e si mise a osservare da sopra. La scala risuonava per i coppi pesanti di spazzola sulle tavole di scalini. Lo straccio raccoglieva l'acqua sporca. Poi era spezzata nel secchio. Tre volte proprio in beta l'acqua. Su e giù nel palazzo si respirava il buono duro di sapone. Non c'è che dire. Questo adò un riservizio se è fatto suo. Lui deve riconoscere appartamente quello del primo piano, che alla fine l'ha avvicinata con le buone, con il pretesto di rentare lo storino. Con l'archilite stava arrivando al suo penerottolo. Brava, signorina. Una scala che è uno specchio. Meno male che è venuto un signore tanto stuporoso al secondo piano. Il suo dottore vuole tutto ben fatto e molto esigente. Così fa anche piacere. Proprio così, queste parole non sono sredette a Lidia, ma dalle vicine al terzo piano. A faccia d'acqua di mano c'è una certa volutà. Una sensualità in questo modo di guardare le tavole umide, di aspirare l'aroma lavata di legni. Una fratellanza femminile a voi domestici. Una specie di muta soluzione, seppur di poca durata. Neanche quanto una rosa. Lidia ha augurato la buonasera. Si è riportata su in casa il secco con lo spazio e lo straccio. Il sapone. Ha chiudato la porta. Ha morbolato. Guarda queste due galline, che credono di essere prevenire a scutarsi in tenza. Il suo lavoro è finito. Tutto è pulito. Adesso Riccardo Reis può venire se vuole, come fanno certi padroni di casa in piccione. A passare il dito sulla superficie dei mobili. A frugare negli angoli delle case. In questo istante che l'idea si riempie di una gran tristezza, di una desolazione. Non perché si sente stanca, ma perché capisce. Uno potendole esprimere a parole, che il suo ruolo si è concluso. Ora deve solo attendere che il padre di questa casa. Lui dirà una frase gentile. Ringrazierà. Vorrà ricompensare lo sforzo e la cura. E lei ascolterà con un sorriso estraneo. Riceverà o meno il denaro, poi torna in albergo. Oggi non è neanche andata a trovare sua madre. Apprende notizie del fratello. Non che sia pentita. È come se non avesse nulla di suo. Si è tolto il gringliore. Indossa la blusa e la gonna. Il sudore si raffredda addosso. Si siede sullo scabello della cucina. Le mani incrociate in grembo. In attesa. Senza di passi sulle scale. La chiama entra nella serratura. E le cattoresche nel corridoio dice gioviale. È come entrare nel paradiso degli angeli. Lidea si alza. Sorride lusingata. Improvviso felice. E subito commossa perché lui si avvicinava. Arriva a mani tese. Braccia aperte. No, non mi tocchi. Sono tutta sudata. Me ne vado subito. Niente è fatto. È ancora presto. Bevi una tazza di caffè. Ho qui le pasticcine e la crema. Ma prima va a fare un bagno per ti frescarti. Via, che idea. Fare un bagno a casa sua. Dove sei mai visto? Non sei mai visto. Ma si vedrà. Fa qualche tibico. Lei non ha posto altra esistenza. Non avrebbe potuto. Benché le imponessero le convenzioni. Perché questo momento non è più bello della sua vita. Va a scorrere l'acqua calda. A sfogliarsi. Entra ai bambini a di nozza. Pentiere in membra languide. Nel ristorio sensore del bagno. Usare quella saponetta e quella spugna. Strofinare tutto il corpo. Le gambe. Le cosce. Le braccia. I ventri. I segni. E sapere che dietro quella porta lo attende l'uomo. Cosa starà facendo? Quel che pensa l'immagino. Se entrasse qui. Se venisse a vedermi. E guardarmi. E io nuda come sono. Che vergogna. Allora sarà per vergogna che il cuore le batte anche in fretta. Oppure per ansia. O riesce dall'acqua. Ogni corpo è bello quando esce gocciolante dall'acqua. Questo pensare Riccardo Reis che ha aperto la porta. Lì di nuda. Si è coperta con le mani il petto e il sesso. Dice. Non mi guardi. È la prima volta che si trova così davanti a lui. Se ne vada. Mi lasci vestire. E dice a voce bassa. Ansiosa. Ma lui sorride. Un po' di tenerezza. Un po' di desiderio. Un po' di malizia. E le dice. Non vestirti. Asciugati solo. Le ocche viene asciugamano aperto. Le avvolge il corpo. Poi esce. Va in camera. E si sfoglia. E il letto è stato fatto di fresco. Le vien solo a profumano di nuovo. E lì dentro. Si viene ancora asciugamano davanti. Con esso si nasconde. Non è un progetto vero. Ma lo lascia vedere per terra avvicinandosi a letto. Finalmente appare che oggi sono intemida. Oggi non è giornata a sentir freddo. Dentro e fuori tutto il suo corpo arde. E gli è Riccardo Reis che trema. E si avvicina ingeramente. La prima volta sono tutti più nudi. Dopo tanto tempo. La primavera prima o poi dovevi venire. Ha tardato. Ma forse serve. Al piano di sotto. Poi la hiata. Encima due alti sgabelli. Uno sull'altro. Ha rischio di cadere. Rompersi una spalla. La vicina tenta di cifrare il significato dei rumori confusi. Come un garbuglio di suoni. Che attraversano il soffitto. Ha la faccia rossa di curiosità ed eccitazione. Gli occhi lucidi, libilia e repressa. Così vivo non muoiono queste donne. Volete vedere che il dottore è quella là? O chissà se in fondo non sarà altro che l'onesto lavoro di rivoltare e battere i materassi. Sebbene è un legittimo sospetto non mi sembri. Mezz'ora più tardi quando l'idea uscì, la vicina di primo piano non so aprire la porta. Perfino la sfaccettaggine dei limiti. Si contentò di spiarla. Felina e occhio di falco, dallo spioncino. Immagine rapide e agile che passa avvolta da un odore di uomo come una corazza. E questo è l'effetto sul nostro corpo dell'odore dell'altro. Ricadore essere assù nel suo letto, più degli occhi. In questo momento può ancora aggiungere il piacere del corpo appagato, il piacere delicato e precario della solitudine appena iniziata. Ha spostato il corpo nel posto che ha occupato Lidia. Che strano odore questo, comune, di animale strano, non dell'uno e dell'altro, ma di tutti e due. Siamo zitti noi, che non c'entriamo. Al mattino comincia il giorno, al lunedì la settimana. Mattino, Riccardo Reis, scrisse a Marsella una lunga lettera. Faticosamente pensato. Che lettera scriveremmo noi, una donna che abbiamo baciato senza avere il primo paletto d'amore? Che delle scuse significherebbe offenderla? Tanto più che ricevuta e ricambiato con ardore, così si dice, il bacio. E se baciando non l'abbiamo giurato, ti amo. Perché dovremmo inventarlo ora? Con il mischio che non ci creda. Lo garantivano già i latini, nella loro lingua, che valgono e durano di più gli atti e le parole. Consideriamoli dunque questi come compiuti e quelle come superfue. A massimo, usandole nel loro più remoto significato. Come se ancora adesso avessimo iniziato la prima rete del bozzolo. Sfigacciata, tenue, fragile. Usiamo parole che non promettano, non chiedano, non suggeriscono neanche. Che disinteressate appaiono appena insinuino. Lasciando protetta l'arretroguardia per l'aritiate le nostre ultime codarie. Come questi pezzi di frasi, generiche, senza impegno. Godiamoci il momento, solenni e nell'alegria e suavemente. Rinverdisce il colore antico delle foglie le divine. Sento chi sono e chi sono stato. Sogni diversi, brevi sono gli anni. Pochi la vita ne dura. Meglio se solo abbiamo memoria. Ricordare molto, anziché poco. E ricordarmi di quanto osservato oggi nella memoria. Compiamo ciò che siamo, null'altro ci è dato. E così una lettera arriva alla fine. Tanto difficile ci è sembrato scriverla ed è uscita scorrevole. Basta non sentire molto ciò che si dice e non pensare molto a ciò che si scrive. Il più che dovrà essere dipende dalla risposta. Il pomeriggio ricattore essere di poco, mi si era promesso, alla ricerca di un impiego come medico. Due ore al giorno, tre volte alla settimana. O anche una volta. Solo per non perdere la pratica, anche con la finestra sul cortile. Oppure una stanza interna, una stretta del studio, con vecchi mobili. Condietro al paramento un lettino rudimentale per le viste generali. Una lampada allungabile sulla schivania per meglio poter vedere il pallone del malato. Una spottecchiera fonda per i bronchitici. Due stampe alla parete. Una cornice per il diploma. Il calendario che dica quanti giorni ancora avremo da vivere. Cominciò da lontano, a Cantara, a Puglia. Forse perché era arrivato per le parti quando era entrata nel porto. Domandò se ci fosse qualche posto vacante. Parlò con medici che non conosceva e che non conoscevano. Sentiva ridicolo quanto diceva «Caro collega», ricognandosi quando gli si rivolgevano con lo stesso appellativo. «Qui c'è un posto vacante, un altro visorio. Io un collega che è assente. Contiamo che fra una settimana torni di nuovo a visitare». Andò dalle parti del conde Barasau. Passo per il rossio. Tutto è completo. Mancanza di medici non ce n'è, fortunatamente. Che in Portogallo sono disfiritici, ne abbiamo 600.000. E quanto la mortalità infantile, il caso è ancora più serio. Per ogni 1000 bambini nati ne muoiono 150. Pensiamo che sarebbe la catastrofe se ci mancassero le buone medicine che abbiamo. Sembrò proprio al destino. Ma Riccardo Reis, dopo aver cercato così insistentemente e così lontano, trovò, ormai il mercoledì, un posto dove approdare, per così dire, proprio alla porta accanto, in piazza Camuels. E con la fortuna che si trovò sistemato in uno studio con finestra della piazza, certo si vede artagnando in spalle, ma le trasmissioni sono assicurate, i messaggi garantiti, di cui subito gli è dimostrazione un colombo volando talconicione sulle teste del bate. Probabilmente è andata a sussurrare l'orecchio che malizza con un mina, che diceva un concorrente, una mente come la sua, alle muse d'elita, ma con l'imbraccio che tanto uso le siringhe. A Riccardo Reis era sembrato che Luis de Camuels si fosse entrato nelle spalle, ne poteva essere altrimenti. Impiego non è sicuro, è una semplice e temporanea sostituzione di un collega specialista di cuore e polmoni, a cui proprio il cuore ha fatto cilecca. Fosse la prognia se non è grave, ne avrà per tre mesi. Riccardo Reis è una certa luminare quanto ad argomenti tanto dedicati, ricordiamoci come se fosse dichiarato incompetente per pronunciarsi su malicardieci di Marsenda. Il destino, oltre il creatore, sa anche essere ironico, perciò il novello specialista dovette girare per librerie a caccia ai trattati che gli rivedessero la memoria e gli aiutassero a mettersi a passo con i progessi della moderna terapia e prevenzione. Andò a trovare il collega a riposo e assicura che avrebbe fatto tutto il possibile per onorare l'operato e la tradizione di cui era ancora e per molti anni avrebbe continuato a essere e intitola le specialità in quale rinomato ambulatorio che non traccerò di consultare, venendo qui a casa sua nei casi più gravi, approfittando così a beneficio mio e dei malati il suo grande sapere e la sua esperienza. Il collega si compiaccone di udire i luoghi in qualche punto le trovo esagerate e promise collaborazione franca e leale che passeranno gli accordi del culapio sub affitto una percentuale per amministrazione dell'ambulatorio un fisso per lo stipendio di infermiera impiegata un altro percentuale per i materiali e spese d'uso un fisso per l'attuale collega cardiaco che ci siano malate e che ci si salute con quel che avanza non si arricchierà di certo di caldo reis niente adesso ne ha bisogno che ora sono un belungi da finire le monete brasiliane e incitarci un medico in più siccome è un altro affare ci va a trovare la settimana nel dì, nel mercoledì e venerdì puntuale la prima aspettando malati che non arrivano poi preoccupandosi che non scappino infine passati per i recitanti all'attamento sistemerà nella comoda routine della caverna polmonare del cuore ipotizzato cercando sui libri curi per ciò che cura non ha solo e tanto in tanto telefonerà collega l'avevi detto che sarebbe andato a trovarlo e a consultarlo nei casi difficili era stato meno parlare per parlare tattica di convenienza ciascuno di noi continua a fare lo che può per la sua vita e a prepararsi la morte e che lavoro c'è a tutto questo senza dimenticare quanto sarebbe solo difficile domandare collega qual è la sua opinione? a me sembra che il malato abbia ancora attaccato a un filo indica a lei se vede qualche via d'uscita oltre quella ovvia verso l'altro mondo sarebbe stato come andare a parlare di corti in casa e l'impicato prevede per cui compare per la seconda volta ma il seno non ha ancora risposto grazie grazie